Ah, Houston, we have a problem. Cioè, il gioco è bello bastardo. Ci abbiamo messo due retta a fare il tutorial. Va bene che ci abbiamo messo due retta a fare il tutorial, ma il problema non credo che sia stato quello, onestamente. Ok, don't fly. E l'alla non c'è più. Allora, io direi di... Vedere un attimo... Allora, sicuramente mi devo portare delle bende. Abbiamo la staffa, c'ho l'arco, ma non ho le frezze. In caso potrei usare l'arco e le frezze? Perché alla fine io stavo pensando, ma se io sparo da lontano... Ah, ma dobbiamo andare a riprendere la testa, regà? No! Houston, sto gioco è problematico. Eh, bello bastardo. No, la testa ce l'abbiamo, ok. Ah, dobbiamo comprare la cibazza, credo. Ma perché la gente mi bodyblocca? Perché la gente mi deve bodybloccare, cazzo? Stiamo vi. Di meno da vendi, ok. Chiappo questo, questo... Ah, guarda però la salsiccia che stacca. Sono tre utilizzi, mi sa, anche il porco. Sono quattro utilizzi, quindi costa quaranta. E costa comunque più di questo. E quanto va male? Non si guasta con il passare del tempo, mi compro un porco. Ok. Mi compro un puerco. Allora, oh cavoli. Beh, nonni con i venti? No, Rilly! Eh, che cazzo. Devo aspettare mattino, mo. Oh, c'è questo che mi deve dire. Regà, risegnatevi i fiorellini. Risegnatevi i fiorellini che avevate segnato l'altra sera. Allora, innanzitutto, vedi, tipo lui c'ha le bende. Ferma il sanguinamento da una parte del corpo. Che direi che l'altra sera siamo morti di bleeding. Antitossina. Nevei postumi. Senza vivificante. Ripressione di energia, meno 35%. Sanità quando... Ah, adesso... Ah, va bene. Ciao, Fudo. Trattamento delle ferite. Ah, questa è la pozza di vita, credo di sì. Salto delle erbe. Efficienza di vita nel 15%. Ah, questa la usi una volta sola, non mi ricordo, regà. Spugna soporifera, ti fa addormentare. La blu è la pozza della salute, mi sa anche... Minchia, però costa 600 gold, può mai essere una pozza di vita. Allora, madonna. E allora, lì me l'ero calata così tanto per... La verde grande. Bevanda droga. Eh no, questo è un buff. Quello è un buff. Aspetta, mi ha detto dei fiori. O l'abbiamo già fatta, quella dei fiori? Che si dice in giro? Cazzo, non mi ricordo. No, mercante... Ah no, ok. Spero che ve li ricordiate, regà. Allora, abbiamo trovato la pelle d'orso. Vecchi falcioni e mannaie. Dobbiamo fare le tre queste del tipo, che sono sempre altissime. Pelle e corna di bisonte. Ok. Bella, però mi è con i 16. Welcome back. Ah, io mi ricordo che c'era il Timo. Eh, vabbè, se vedo i nomi mi vengono in mente, forse, dai, se li incontro. Niente, dobbiamo dormire? No, alla fine la gente c'è. Allora, lui gli devo consegnare... Completato l'incarico. Give me the money. Ok. È passato tanto tempo, ma siamo ancora qui. Anche il giorno del mio compleanno. Monster, biscotti e sem minore 3. Monster, biscotti e sem minore 3. Happy birthday, Johnny! Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Quante ne fai, Onni? Mentre... Eh, sì, epilessia. Una roba strana era, sì. No, 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 no. Quella non è... Non può essere la pozza di cura, neanche quella. Questa cos'è la mappa? Ok. Questo ce lo portiamo, le bende ce le portiamo. Questo funziona da benda, il primo bleeding, mi tiro via quello. Come arma, che cazzo di arma abbiamo? Abbiamo il forcone con i danni penetranti. Allora, proviamo ad andare a vedere se il tipo ci dà una quest. Qui non... Aspetta, qui non ce l'hanno l'arco e le frecce dei tipi? Allora... Cioè, se io provavo a giocare... Dardy. Hai Dardy per la balestra? Se io provo a portarmi l'arco, regà. E a giocare full ranged. Perché alla fine così sparo la spell... E nel momento che si ricarica la spell gli tiro comunque frecce. Hai qualche contratto per me? Al momento... Niente da offrirti, torna più tardi. I contratti che abbiamo sono tutti G-Guard, giusto? Perché c'era questo pericolo alto, questo pericolo alto. Quindi dobbiamo fottutamente livellare. Il tuo sogno ti si sta per avvirare. È... È per tentare, perché... Cioè, al momento la lancia non serve a un cazzo. Quindi allora la cosa l'avevamo fatta. Proviamo ad andare a sinistra? Il monastero dell'ospite è inestinguibile. Come inestinguibile. Potremmo andare a vedere i punti di interesse. Tiriamo tutto a destra e andiamo a vedere quelli due lì sopra, va. Ok, il porceddu. Facciamo un test. Ok. Oh, shit. What? Ma sei serio? Cosa sto vedendo? È morto, raga. È morto. Ok. Aspetta, devo mangiare. Oh, shit. Oh, shit, raga. Ho tirato le frecce a banana, proprio. Bella mira, bello sguardo. Minchia. Bello failure. Ok, abbiamo dei mob. Apriamo dispel, direi che comunque fa più danno. No, dai! Sono tipo morto, immagino. Eh, sì. Ma porca puttana! Pazzisco, raga. Secondo me ci siamo bevuti qualcosa nel gioco. C'è qualquadra che non cosa. C'è qualquadra che non cosa nel gioco, raga. Cioè, non è normale che... Non riesca a fare il livello 3 e prendere due abilità di merda. Allora, quindi abbiamo detto che ci compriamo il maiale. Questo, questo. Bella Logan con i 27. Welcome back. Allora, ho completato l'incarico. Va bene. Il tipo non mi dà le quest. Il tipo sotto voglio comprargli le bende, abbiamo detto. Mi dice all'inizio che devi fare attenzione. Vabbè, non è che non ho fatto attenzione. Che minchia con l'arco proprio spara banana. Ciao, Alchemy. Cosa vendi? Dammi... La benda. E ti vendo questo. Ok, riempiamo la borraccia. Beviamo. Ok. Fammi capire un attimo. Dov'è la fame? 34%. Io mangio. Evacuo a 14, ok. Ok. Ah, devi bere più di una volta, non si fulla con una sola. E riproviamo, raga. Secondo me questo gioco è ancora troppo sbilanciato. Ma no, dai. Non sarà quello. Secondo me sono io che non ho capito un cazzo. Sono io che non ho capito un cazzo di niente. Eh, vedi, però il problema è che mo' non... Figa godlike. Vedi, mo' non ho un cazzo per tagliarlo, però. Questo teoricamente doveva essere mangiabile. Cioè, dovevo riuscire a prendergli alla pelle, credo. Non mi serve un cazzo. Mmm... Imboscata. I'm ready. I'm ready to kill you. Little fiend. Oh, cazzo. Eh, allora, lui sta scappando. Lui gli do il calcio. Ok. Guardalo! Guardalo! Magari hai perso qualcosa nei commenti che ho letto in giro. Tutti hanno perso qualcosa. Ah, dici che tutti stanno bestemmiando questo gioco? Ah, vedi. Si due, io ho rotto il culo. Randello, forcone. Allora, riposiamo. Oh, shit. Allora, lo psilio era uno di quelli, però vabbè, lo psilio si trovava easy. Lo psilio si trovava easy. Allora, siamo bagnati. E it's okay. Allora, noi andiamo avanti. No! Quante volte ho zonato, regà? Una, vero? Siamo qui. Quindi dobbiamo zonare due volte e poi salire. Chiocciola Goizitwitch vai lento e prudente. Perché l'altra sera te lo sei perso qualche dente. Monte a destra e a manca. Abbiamo lo streamer che arranca. Muore ogni tre per due. Ci manca solo che muone dal bue. Non compra niente, nemmeno una spada. Spera sempre che dal cielo le cada. Mentre Sam stiamo ad aspettare qui, è meglio subbare. Lovely Fudo! Thank you, Johnny. Cazzo, che poeta. Ma ve lo vedete in barca, cazzo, mentre la mattina va a pescare? Ma sei da solo Fudo? No, no, sei da solo. Che famicchia il cantastore in barca. È il bardo che tutti vorremmo? Oh, cazzo. Due lupi mi rompono il culo. Ormai mi hanno aggrato, vero? Credo proprio di sì. E a proposito di subbare, regà. Sono giorni veramente brutti. E quando dico brutti, intendo molto brutti. Quindi cercate i vostri Prime. Oh, cazzo. Eh no, sono morto. Oh, Gesù. Non lo so, regà. Ma brutti brutti, sì, pesantemente. Beh, la don ludo con i 20. Thank you, Johnny. Non lo so, regà. Cioè, alla fine non fai in tempo a curarti. Arrivano, ti one-shotano, fine. Cioè, fine dei giochi. Cioè, a me pare strano che io starto e ho delle quest che non posso fare. A me pare strano quello. Beh, alla fine con i 16. Welcome back. A me pare strana quella cosa lì. Se non buildi bene... E cosa... Come faccio a buildare PG? È level 1. Sono un mago con un punto in calcio. Cioè, ho preso un punto nel calcio e basta che puoi dire vabbè, potevo metterlo da un'altra parte. Però sembrava utile come roba. Prova a vedere un'equipe. Ma di sicuro la roba costa troppo, regà. Cioè, se una pozza costa 600 gold, cazzo. Ok. Non c'è modo per farmare XP, probabilmente. Eh no! Non sto trovando il modo di fare 2 di XP. No, proviamo ad andare giù che... non siamo mai andati verso il basso. Vediamo se qui in basso magari ci sono mob più... più pippe e riusciamo a fare 2 di XP. Io avevo livellato nel bosco con le tagliole. Che cazzo? No, perché mi piace. Cioè, nel senso, poi questa cosa qui che è hard mi piace. L'unica cosa è che va bene essere hard però mi devi far capire da che cazzo direzione devo andare. Almeno all'inizio. Ti consiglio di farmare pelli e le vendi tiki paggi. Eh, ho un problema. Essendo che sparo le spell di fuoco abbiamo notato l'altra sera che molto probabilmente i mob bruciano e non riesco a pigliare un cazzo. Ma dove, cane? Cioè, ok che tu mi dici fai i primi livelli all'interno dei dungeon. Dove? Io ho fatto una missione o forse due e poi sono diventate subito alte. Cioè, sono diventate subito hard e non riesco a prendere quest. Ho stunnato? Ah no. Un baby che sveglia che gli ho dato. Scusami. Mi ho fatto 20... Ah, ma vedi che questa fa danni Ah, ok. Allora la... Il danno critico non è sul cast è sul melee della staffa. Tu dai la sveglia con la staffa melee e fai un danno arcano. Hai anche scelto il caster che è difficile. Da me ne pari altre cose che ti semplificano la vita. Poi in generale i lupi lasciali perdere. E non sono io... Cioè, sono loro che non lasciano perdere me. Eh, quello è il problema. Allora, qui c'è un... Scusami, siamo già arrivati qui. Oh cazzo, pericolo alto. Oh, vediamo. Oh, forse ne arriva uno solo. Bella cons. Dai, mi sta stunnando, Rilly. Guarda quanti turni sto perdendo. Niente, raga. Mi ha bisciottato. Scappa, Johnny. Niente. Esaminalo. Ti dice vita 100%. Cioè, non è che mi dice vita 5000. Mi dice 100%. Cosa capisco io dalla percentuale di vita? Cioè, non ho modo di capire se è forte o se non è forte il mob. And we're back in our house. Searching for some glory. Allora, va bene. E no, prima c'è stato in chat Cane che ha scritto che devo fare i primi livelli nel dungeon. Magari c'è un dungeon qui vicino che ci siamo bevuti e basta andare lì. Dov'è questo dungeon? bella, jade. Come stai? Un po' che non ti vedevo. Inizio ho giocato per un po' per rivenare ho dovuto sfruttare la meccanica del cambio di zone e formavo gli orsi così. No, dai. Non mi va di romperlo. Ah, qui c'è un mulino in maniera in rovina. Qui c'è un punto di interesse. Possiamo provare ad andare a nord a vedere questo punto di interesse qui cos'è. l'accampamento è dove abbiamo dormito qui e la fortè ma rispondono i mob? No, non credo che rispondino. Comunque proviamo ad andare in su. Vediamo. Proviamo ad andare in su e vediamo cosa succede. bella, Sargon. Non è che sbagliamo a non comprare nulla magari bisogna trovare l'arma giusta. No, non è un problema d'arma, Johnny. Il problema è che non andiamo nel posto giusto. Non è l'arma il problema. Perché non è il problema che io non gli faccio danno perché danno glielo faccio non tantissimo ma ok. Il problema è che loro mi bisciottano quindi vuol dire che sono troppo forti per me. qui serve la staffa ottenuta dall'albero di Cassia. cazzo 9 ma non sai che sul patto fix c'è Cassia? Ora che non giochi più a LoL farei Dota. No, non credo di giocare a Dota. ok, allora siamo saliti di due quindi siamo qui ora andiamo a sinistra l'impatto fix dicevo, in stream la gente ti fa 8000 domande e onestamente non ci sto capendo un Kaiser. un Kaiser. Oh shit. Allora, però noi dovremmo essere giusti raga. No, forse voglio donare una a sinistra. Via! No, l'Ubaz grazie. Ciao, Alvi. No, Gede finché non non fixano un po' di cose non non mi interessa onestamente. Ciao, Ele con i 20 welcome back come stai? Mi sono perso raga mi sono fottutamente perso. Il quadrante giusto è uno a destra e uno sotto. ok vabbè intanto giriamo nei boschi qualcosa magari troviamo. Fame terribile fame porca tre ma quanto cazzo mangia? No, Gin non dirà però la mappa che sto male per colpa di di patto fix nel mio vocabolario ormai la parola mappa è bannata ok? Non dite mappa grazie nooo vabbè vabbè uno solo lo aro però lo aro raga è così e così e le minchia domani domani ragazzi ho il secondo round con l'osteopata oh shit sta scappando sta scappando vedi che l'ho arato perché non piove non gli facevo un cazzo quando pioveva vabbè vabbè la Joker con i 18 no ma non è che sono disponibile è che non capisco come work le mappe c'è qualche pro di Path of Exile fra di voi? ma pro intendo un pro eh non venite non sei un cazzo poi perché mi girano i coglioni quelli che fanno così cioè se uno dice io a parte Paco che trolla e non sa rispondere a una singola domanda che faccio impazzisco e lo insulto quindi deve essere uno che veramente conosce il gioco e no perché non c'è il coltello fudo ho visto il trailer valgo come pro allora quindi barba ha detto uno basso uno a destra donna con le 20 fucking sub gift love you donna grazie omega infinita abbiamo perso eh un numero dieci volte tanto le sub regalate negli ultimi giorni però ce la faremo lentamente grazie don omega grazie infinite ultimamente non so perché ma sono aumentate le view sono diminuiti i polli what e what esatto che anche misto cerca un pro di poi minchia questi sono in tre allora no i cadaveri i cadaveri troppano la roba per terra asa allora io direi quello che scappa lasciamolo scappare tanto dubito che si curino anzi lo scopriamo allora johnny capelli belli 37% di vita vediamo quando mi corre ancora incontro se ha più vita no figa ho già finito il mana che cazzo ma mi picchia ranged farato devo picchiarlo mili si arrende ok vedi questi li ho spappolati in tre cioè quindi il livello di difficoltà del nemico è abbastanza importante era lui quant'era rega 30 no 60 ok si curano quando scappano porca puttana oh era un altro di quelli che veniva picchiato da bambino dagli amici il dev di sto gioco vaffanculo allora vai tranquillo niente niente spoilerini faccio cerco e troverò oh un pezzo di tessuto mi interessano alcuni mercanti 150 nemoni ci piace ci piace qui possiamo riposare e salvare e direi che noi lo facciamo ok come che si faceva a bere instant così la butto ah con alto ok quindi turricanente e mangiare dovrebbe funzionare uguale ok very good indeed qui dentro non c'è niente qui c'è del loot qui trovo la roba gegendaria schele schele che mi lanta sempre poi schele sei un pro di poi adesso dice no l'ho giocato un paio di volte l'ho visto so per sentito dire ah e quindi qui dove cazzo siamo noi raga stiamo all'accampamento quello di sì quindi andiamo uno su uno a sinistra non abbiamo livellato uh però fermi raga tre mob abbiamo quasi fatto livello come non sto spoilerando se mi dici cosa fare spoiler è tranquillo scherzi ho vinto gli europei di poi l'anno scorso ok allora allora quindi di qui ora troveremo un altro accampamento di babbi cos'è una volpe what does the fuck say shit it's ok saranno babbi raga i feel it 1 2 3 1 2 3 1 2 3 vieni qua mother tracker guarda che mother codardo guarda che schifosi guarda che schifosi le stofanti vigliacchi sono scappati raga sono fottutamente scappati l'equip si sta rompendo no dai è a posto a parte minchia l'arma è già al 50% porca troia ci ho dato 10 svingate 1 2 3 e vaffanculo e sono gli altri dove sono gli altri con la mia it's p il mio enchantix è troppo forte dove sono dati questi cani rognosi voglio la mia xp eccolo è come il ladro che va a fare il colpo e poi torna a casa bravo la collana di 9 serve una collana 9 9 9 ne manca uno all'appello è il gran visir de Tucci Ladrun schillaci eccolo eccolo boom ok e io direi di salvare ok abbiamo the flail un'arma da vendere l'inventario demi pieno e siamo qui direi di tornare in città no tecnicamente devi farle tutte ogni mappa che comprivi la prima volta è un 1% è troppo no no allora le cittadine le Watchstone le hanno reworkate questa sera non ci ho capito che lo sto giocando poco a me interessano le Watchstone a me interessano le Watchstone che se fai una mappa troppo quella vicino l'ha capito anche Marta che non ci gioca devo scendere di 1 2 1 destra immagina leggere le Watchstone nel 2021 no è che c'è troppa roba c'è nel senso io ci avevo giocato secoli fa e non c'era niente nel gioco figa adesso inizio a giocare le Watchstone hai i 27 season da recuperare e gli haste e i ritual e il carretto e la miniera e minchia cioè devi dedicare la vita a quel gioco per capirlo e poi inizio a giocare bella bench con i 3 mesi welcome back thank you chiedi a co cazzo vuoi che ne sappia ma come lo fa tutti i giorni ma non è vero lo fa una volta al secolo tipo quando esce la season nuova prende fa un pochettino sì probabilmente adesso lo starà facendo beh laudica i 37 dove cazzo è a destra la città oh c'è la falce del paesano raga il paesano dorme cazzo non c'ho slot fottuto paesano fortunato ora lo fa quasi tutti i giorni ma sarà un noob cioè credo non lo so non credo che sia uno che ha rasciato l'endgame cioè conoscendo coeli che si fa le quest legge la lore se il mulino è qui la città dovrebbe essere a destra forse devo zonare una volta ah sì nell'altro quadrato lo shaper lo aveva fatto cos'è lo shaper ok siamo tornati in città raga tutto ok we live lì c'è la cosa quindi per prima cosa andiamo a bere ma lo boosteranno i viewer allora sta roba qui è da vendere a lui sicuramente sì la mazza si vende dal blacksmith non dal coso allora cosa vendi 3 gold vuol dire che non me la da lui 7 gold vabbè questa ci sta 7 perché non vale un cazzo vale 9 questa vale 43 me ne da solo 3 proviamo dal carpentiere quando ci faremo un bel posto di quegli sedi il maiale intendi a breve niente lo buttate per terra già ne sono ancora al punto che tento di passare la roba ai merchant e mi scivola per terra quale boss un piattisto randello la spada quasi quasi me la tengo per tagliare le cose e il forcone se non li identifico ripperoni il problema è che le scroll per identificare non ce le ho e non mi va di identificare un altro forcone merdoso perché sicuramente è una merda il forcone ok allora andiamo dal tipo non siamo mai entrati lì credo o forse sì i cittadini sono rimasti uguali hanno aggiunto solo le fight con maven e maven mi è poppato oggi mi è poppato oggi dovevo fare delle come ho lasciato lì ho detto cambio cambio zona perché non so cosa sia maven non lo voglio sapere tessuto prezioso questo mi da 98 gold questo mi da 120 tuo il tessuto prezioso prezioso il tessuto prezioso vedo che una spada me la tengo però vedi allora il falcione è scadente raga fa 23 danni perché a me non ho ah perché è rotta ah vendiamo sta cosa qui che occupa troppo spazio ciao baby 72 gold vaffanculo tu puoi riparare riparo oggetto di metallo 123 gold ma dai alla buttana oh non ci ho fatto caso ragazzi era veramente questo quanto mi da se glielo vendo 12 12 12 71 ok 50 gold no 12 12 è la 60 gold bell'atrio con i 30 step adesso arriva il dps step vaffanculo work in progress hai capito work in progress allora abbiamo livellato dai 15 di xdp 15 di xdp vai da rubare la falce ma chi se ne rega la falce allora salviamo raga salviamo e compriamo altre vabbè a parte che adesso aspetta compriamo solo sti cibi qui che staccano va che almeno non mi portano via tre quarti di inventario e non tilto ah vedi che non posso dormire che vita de merda raga ah dobbiamo andare a vedere se il tipo c'ha le quest allora vorrei alloggiare qui per stanotte 10 corone 60 corone una settimana 100 corone due settimane ma io così così do 100 corone e raga dormiamo quando cazzo vogliamo col cazzo risparmio solo 40 corone eh volevi scammare me brutto coglione di un barman voleva scammarmi non era dissing ai barman pacco tranquillo era vabbè non è che se uno non lo puoi dire non era inerente al lavoro non ti sentirei chiamato in causa hai capito? allora quindi 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 andiamo dal tipo qua andiamo su Johnny dammi una missione easy al momento non l'ho ancora contatto ma perché? non mi da più contratti sto pezzo di fanghiglia esatto raga dissing ai barman in privato però non ho riempito cazzo presto 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 what? ho urlato? mi era venuto scritto urla regà come ho fatto? manca solo Alex cazzo voglio ah dato che abbiamo salvato ormai siamo godlike regà ormai siamo unstoppable abbiamo ucciso infiniti nemici ora prossimo bandito li vediamo pure e vediamo il da fare allora noi siamo qui che missioni ho io? ah secondo me le missioni non me ne da nuove finché non taglie monastero all'ospite inestinguibile o la silenziosa cripta la silenziosa cripta qual è? tanto abbiamo appena salvato possiamo provare ok andiamo a fare le cose inestinguibile e vediamo chi abbiamo salvato? ho salvato il mio il mio benessere psico ho salvato io non ho salvato nessuno devo salvare me stesso non posso mica salvare altri su sto gioco io se volevo essere il paladino di qualcosa giocavo a Shovel Knight di che tratta il gioco? morte, distruzione e ricarica riassunto a questo vediamo cosa c'è mi vende i semi i panini ok quindi i panini e i pretzel allora ok vabbè seguiamo la strada e go niente ma come cazzo è che la mia sigaretta elettronica è programmata per scaricarsi ho veramente un cioè credo di svapare tutti i giorni alle 10 mi si scarica tutti i giorni alle 10 è incredibile cioè sono di un preciso che neanche i vecchi cazzo perché sto diventando vecchio è passato è stato un momento così allora zoniamo ancora di uno comprane un'alimentata corrente minchia no volendo la potrei sempre tenere attaccata con la con la usb però mi dà fastidio il cavo haha did you see that that's my level 3 e xp che cammina xd prendi questo marrano perché non scappa cazzo è godlike prendo il loot uno due perso un turno per prendere il loot cazzo uno due tre easy allora il tipo voleva lo psilio sicuro ce n'è un altro ho livellato credo yes credo di dover mettere altri punti in volontà sì sì io metto i punti in volontà ma faccio sempre lo stesso merdoso sette di danno ma che scam è mai questo il mana come lo ricarichi con i turni vedi che camminando mi si ricarica il mana però se vieni ferito ti si sputtana un po' tutto sto facendo la build magia no 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 sono guerriero puro però è talmente incazzato che spara le palle di fuoco certo che sto facendo la build magia se metti i punti in magia c'ho in mano una staffa e lancio le palle di fuoco cosa cazzo ti sembro il camerino del messicano allora abbiamo preso lo psilio un arciere esatto perché in realtà io devo fare l'arciere quindi sto mettendo tutti i punti di intelligenza perché avevamo appurato con degli amici su diablo che se tu all'arciere non metti intelligenza si scorda di portarsi le frecce perché è stupido quindi ogni arciere che ci rispetti ha bisogno di hint queste no però ci sono delle ossa prendiamole c'è un cadavere un vuoto tanti cadaveri l'osso pelvico Elvis the pelvis in the Memphis uh baby un fodero potrebbe suscitare in terrestre in alcuni mercanti a 60 gold non vale un cazzo si può polverizzare un tempo fa univa le gambe di una persona però eh ah qui vedo tanti cadaveri quindi non so se è smart entrare ma trappole non ce n'è sembra vabbè allora l'argenteria poggers si potrebbe avere della luce no immagino cosa cazzo sei un proselito prescelto un vampiro del patto scarlatto ok alla luce muore il vampiro no non mi c'è Isa ok non escono ok no gli ho tolto solo 10% con un hit diciamo che fold dove siamo ora è fatto che non so dove cazzo sono sono ah sono ma come è diventato medio perché ho livellato e è diventato medio e adesso mi fa pensare di essere scarso dobbiamo mettere punto skill eh si potre allora magia piromanzia geomanzia vuoi con massorunico nella catena verso te fici sei danni arcani a tutti i nemici però sei danni è un cazzo si stanno in versione di respingerli e basta con il fuoco non è altra magia no devo trovare i libri ah questo mi dà per 3 turn però 3 turn non è niente ragazzi 3 turn non è proprio niente anche se mi dà immunità il bleeding che non è male incendia le caselle dei decenti infliggendo 22 danni da fuoco questo non è poco 22 ha probabilità il 62% di incendia di tutti i bersagli ridurre il 12% la loro resistenza al fuoco quindi vuol dire che poi gli farei ben un danno in più tutte le altre squadre di magia erano private a me hanno mandato la statale c'era solo fuoco geomanzia quando un danno di raffica colpisce un nemico estende la durata dell'effetto di un turno raffica l'effetto di che? lancia una sequenza di 3 dardi ogni dardo infligge 7 di danno quindi vedete che il danno che io faccio non è dato da quello che ho addosso cioè credo che l'equip non cambierà mai il danno che faccio il danno sono le spell ogni dardo infligge 50% di danni in più e i bersagli in fiamme quindi ok vuol dire che gli vado a fare tipo 10 di danno se rimando in fiamme quando un dardo colpisce un nemico incendiato estende la durata dell'effetto di incendiamento e passivo mi da due e mezzo di potere piromantico ah poi lo cambia anche l'equip ok però devo stare fermo perché se mi muovo mi brucio shit si ok ok bella wolf con i 28 welcome beccherino ma la mappa finirà qui tipo tipo tutti sti campi qua eh aspetta magari proviamo ad andare alla cripta silenziosa nuova qui c'erano i non morti magari vorrei ancora fare un po' di più più con gli umani anche a cronico mi sa che se la usi muori male io perché mi hai preso allora ora siamo qui ora siamo qui ora torniamo un attimo all'accampamento così mi smart salvo mamma mia mamma mia che pianificatore raga che pianificatore che sono se mai dovesse scoppiare una guerra a colpi di dildi nel mondo venite nel mio battaglione e vi guiderò se scusa le quest non hanno una scadenza finite le scadenze sono rip le quest si infatti io sto solo aspettando che ripino le quest sperando che mi dia delle quest più easy eh quanto sono smart di johnny cash ring of fire si tiriti tiriti tiriri facchio di mca hai capito facchio pupamelo tiè scusa domanda ignorante non è che quando dice infliggi 7 danni da fuoco intende che infliggi 7 colpi che fanno danno da fuoco pare al tuo danno da fuoco esempio se hai 5 danni da fuoco usi la spell 7 per 5 no abbiamo appena salvato credo che sia il momento di scoprire se riusciamo a a farci l'alce credo di averla missata intanto non mi ha ancora grato va bene ah perché forse è fuori range cazzo via 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 cazzo pelanda strategica via via purcudigel via via avevamo appena salvato it's fine vabbè regà minchia ho aggrato un maiale un cervo due leocorni e mancava il drago un povero dindie ma che cazzo di pg di merda mi son fatto purcudigel lo sguercio è una una classe su sto gioco che pg hai fatto sto giusto eh lo sguercio mica sparava banana ma che cazzo è ma mi sa tutto ho fatto 8 oh oh baby e ti buccerò anche zaea io ti avevo detto di fare la vergine e Johnny ma tanto dopo il primo mob su sto gioco qui non ha tremato lo schermo o me lo sono inventato e tipo avete presente quando arriva il gigante su don't starve Mark è la regala d'Aricryl thank you Mark ah se noi eravamo qui abbiamo zonato due volte e siamo esattamente a bordo mappa proprio come stavo ponderando io nel mio briefing qua perché voi non lo sapete ma io ho il coltellino dei boy scout e sto incidendo sulla scrivania la mappa ogni volta che facciamo una tratta infatti non ci possiamo giocare più di tanto questo gioco perché inizia a esserci segature dappertutto per terra è un po' un casino si guasterà fra due giorni questo non guasta mai quindi noi ci mangiamo questa ciao Ari può incidere il monitor tanto sta già andando è vero quello verticale si cazzo lui è un gatto io la volpe siamo in società di noi ti puoi non oh baby il doppio lupo credo che me lo butti cos'era quel punto di domanda inseguiamolo cazzo sta scappando guarda che vigliacco ha sentito il potere delle mie magie perché una volpe scappa scappata dal maiale è il momento sia easy clap e ma dov'è il scusatemi non dovremmo essere la silenziala cripta dovremmo essere la cripta ancora a destra ancora a destra ci sono ci sono molte più state del previsto la rotella è solo a metà resistenza ai danni 100% nel senso che li prendo tutti vedi piromantico è 750 più alto perché la passiva mi aumenta il danno della piromanzia c'è anche il potere cronomantico la precisione è perché è un po' sguercio c'è notare c'ho il 94% e prima ho missato due volte di fila ci siamo raga siamo arrivati alla cripta un goal beh i goal sono noti per essere dei mob di merda cioè se non uccidi un goal sei un coglione morca puttana enchant no con la pedata cazzo ho ucciso sto bliddando per quanti turni ancora non me lo dice ho la venda usa sa avete visto raga siamo pronti a tutte le evenienze siamo pronti a tutte le evenienze ok il cimitero l'è bel grosso però credo che non ci sia un cazzo dobbiamo entrare ok come tu che volevi vedermi morire Johnny sei matto stavo facendo progress finalmente altra sera 5 ore non abbiamo fatto un cazzo di niente cioè sembrava 50 volte il primo bacio praticamente mi svegliavo prendevo vendevo le cose andavo dal mercante andavo giù dal tipo mi ricordavo i fiori andavo cercavo i fiori trovavo un mob e morivo mi svegliavo mi svegliavo andavo le cose al mercante completavo la quest andavo al tipo delle pozze compravo le cose mi chiedevo che fiori volevo andavo cercavo i fiori prendevo i fiori incontravo un maiale e morivo e che cazzo lusi lusi scorderella ucciri il necromante ah 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 vedete perché non mi torna sulla vita ma io ti sto arrosto cos'è il maiale ah perché sono pieno come un porco cazzo quello riempiva di brutto e ho sbagliato a mangiarlo troppo ah io posso castare di qua oh che figo ah lui sta arrivando guarda che lo faccio andare nel veleno è finito il veleno magari la reattiva vediamo no situazione cosa ha fatto è passato il turno guarda qua eh Enchantix yes cozzo beh Henry con gli undici thank you Johnny welcome back ah scusami questa fa 23 danni questa dice ragazzi io mi tengo la spadina a una mano figa se sono ignorante così look at the damage did you see that l'ho arato raga l'ho fottutamente arato è lì che piange ancora mamma mia ricerca io dovrei capire le 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 simpare percezione che ti fa sparare più lontano ok ho fatto 35 mili di critico what the hell ah si è messa in parata però sarà tipo per 3-4 turni quindi sarà già finita non ho capito cos'è tentennamento che ogni tanto tentenno vedi tipo mi procca tentennamento non so se è una cosa positiva o negativa non c'ho mana lo porto sulla trappola fuck ho preso nel culo altro che trappola non c'ho più mana not dead ferita lieve al torso ok devo bendarla la ferita lieve al torso applica balsamo curativo non devo bendarla infatti non credo che mi faccia usare ah no me la fa usare ma non devo bendarla la tua condizione è riduciata la torsolute massima è 24% questa parte del corpo è ferita se io ci metto il balsamo 21% ah no mi sa che dovevo prendere la stecca giusto ci metto l'obsilio che tanto ah se io faccio R riesco a dormire perché non mi sale la vita cioè mi sale lentissima le armi mi abbassano le stats e dove è scritta questa cosa fotore magico 120 cambia niente ciao ciao Ale ah questo c'è una spada corta vediamo se è meglio di sta cosa 20 danni da impatto 21 danni da mamma mia metto i punti in duale adesso facciamo il mago con la duale perché c'ho il dolore ma scusami non mi passa sta roba non so come work 1 2 3 4 oh baby no raga sono godlike ho passato mettere un punto in magia calcione enchantix spadata fanculo oh merda e la play oh cazzo no dove ha camminato ma è stupido ma dove sta ma io cliccavo ma io cliccavo da un'altra parte raga credo che avessi tipo qualche debuff tipo caos una roba del genere seee cos'è sta roba not legal via 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 ah confusione ok confuso e felice no 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 ah noi siamo qui è fatta però raga era fattibile quel dungeon eh allora devo andare su di due e destro di due quindi destro di due ah 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 uh che figa ma posso cliccare anche nel nulla cioè se io faccio così oh ma che roba oh ma che roba ok sono godlike eh raga c'è stato un problema hanno chiaramente usato qualche ooooh qualche ordigno illegale per per provocarmi quell'effetto spiazzante che ha determinato un un esito negativo molto negativo alla nostra avventura poche parole è andato tutta puttana raga shit com'è possibile chi è che sanguina qua ho visto dei danni hanno ammassato un maiale no è un c'è boom easy loot ve l'ho detto che ce l'avrei fatta a farmi un cervo voi nomi che è un cervo troppo alto guardano lì per terra spellate senza carne come loot inmeritato stai dicendo vabbè vabbè Alexandra con i 34 welcome back no lupo e maialo no no ma scusatemi io non sono andato di due a destra perché siamo sopra perché non potevo più zonare la mappa è sbagliata raga quel deficiente in town ci ha dato la mappa sbagliata oh c'è una pala qua vediamo se fa danno la pala una merda dov'è il goal che mi dà la mia xp su cose golosa era random è la casa di graveyard keeper sì raga diceva che permette di effettuare scavi e cazzo mi scavo la tomba ricordo di non scavare troppo in profondità ma no ma credo che non penso di poter scavare no infatti ma no è ma è questo il posto silenziosa cripta sì sneaky sneaky attraverso la parete madre uno due eh che più smart little bitch ok ci siamo raga avevano muore micchia immortale bella zeca con i sette easy clap questo è un arco di legno di tasso raga la manna è giga rotta ah ma che figo ragazzi ho fatto caso solo ora che quando la spada è rotta è tutta rovinata a livello di disegno ah fammi riposare bella raga i 35 welcome back allora due tre cazzo mi sono un po' fottuto ho sbagliato dai no 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 il bleeding il bleeding il bleeding oh baby no mi è stato mi è cliccato mi è cliccato ho sparato sul gradino davanti a lui che nel gradino io non ho visto il gringo era lì la beva cazzo ci sono oh no mi ha scesato calcione fam non è efficace uh il crit il crit del vaffanculo un po' più in là I'M ALIVE I'M ALIVE no raga io tutti questi item qui come faccio a portarmeli il dente dorato ok intanto m'ho pieno una trappola e muoio non ho livellato vero? no ma domanda il topo come eeeeee porca troia e il problema è che finisco il mana perché volendo mi dichito anche per tanto che è quel monaco che ha chiuso la porta nooo che si sono swappati dai cosa ha sparato uscita era lì l'uscita ah quella è una pippa questo dovrebbe essere quasi morto 5% easy clap uno scudo di quercia spada arrugginita magari la spada arrugginita è meglio di sta merda che c'ho danno da veleno 12 danno da taglio 22 danno da taglio buttiamo sto scudo danno da veleno potrebbe essere OP raga oh cazzo ok fibra argento 100 gold money una mazza non identificata e dei guanti non identificati che non me li fa luta ok ferita lieve gamba stabile ok ah minchia zoppi come no possibile eh sì oh cazzo sei serio ok ok lei è quasi morto va bene va bene va bene va bene adesso torniamo col senno di poi e riusciamo a a purificare ah vedi perché no devo andare due noi dove cazzo siamo raga ah perché forse noi siamo qui non ho cominciato se fossi qua prima ok tre destra uno su ciao no che non mi arrindo ma siete matti no che non mi arrindo ma siete matti no altri due destra robaz basta con gli spoiler ciao dobbiamo capire perché a volte corre a volte cammina oh cazzo eh vabbè minchia balla coi lupi ma vada via che va bella tova con i 41 figa oh oh umanoidi easy loot easy xp eh Dio non c'è l'accampamento di sti giannizzi di qui che vado a me li farmo un po' cazzo hai origini piemontesi no 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 sono nato e cresciuto a Como no no miss miss click ok tutto questo non è possibile ma non posso spawnare con i lupi di fianco adesso scappa scappa corri scappa c'è il lupo è uno solo scappa scappa ah minchia mi c'è Isa cazzo da fare ma se ne torna di là no se è un meraviglioso manco vestito di amore e fantasia come fai ad andare mi lì e beh non è che sono io che vado mi lì sono loro che vengono mi lì allora ho zonato una volta a destra altre due volte a destra e uno a su dai che è fatta raga tra poco lo vedremo se giochi a iaia eh raga è la vecchiaia cambiano anche i miei gusti no no ma io ho sempre amato sti sti RPG eh ho mai pensato di fare uno yakuza no non mi piace non mi piace yakuza non mi piace quella parte di umorismo che ha che per me è tutto tranne che umorismo questo non l'avevo fatto avevamo provato il giorno che ero uscito a darle access dieci minuti uh uh scava la pala la pala la pala presto presto ma vada via i ciappi va ma va a cagare non è che ci sono altre tombe da scavare eh ah eh ho trovato degli stivali merdosi qua ce n'è un'altra go come ho fatto a cadere così in basso come ho depredato le tombe cazzo ma questo non è graveyard keeper è graveyard looter diverso vabbè minchia ti deve stare in culo uno per mettergli la la paglia nel nella tomba una scena a faligname 30 danni ma 30 danni meno 24 perché cioè vuol dire che in realtà ne fa 54 no dai potrebbe esercitare l'interesse di alcuni mercanti tanto vale 10 gold merdosi ferro di cavallo 10 gold 8 gold ne fai 6 ah ne farà 6 ok vedete che il danno nominale è quello eh la vendiamo abbiamo scavato lo scavabile per prendere un cazzo di niente di loot va bene possiamo buttare la palla direi perché non abbiamo spazio arricchipiamo la nostra spada mettiamo questo così recuperiamo space questo vale 60 gold però adesso lo teniamo e torniamo giù esatto se è un attimo ok oh io non le disabilito le trappole perché le uso sui mob mamma mia troppo smart ma gli elementari mi chiamavano lo stratega ok il catreca il catreca sono adesso oh la madonna cos'è sta roba? è bruciato il tappeto raga what? bastone da viaggio una merda però 50 gold è una bottiglia di rum 15 uomini sulla cassa del morto è una bottiglia di rum allora qui c'è il coso non ci interessa rompere i vasi mi sa che non servo a un cazziniente perché non ci abbiamo mai trovato nulla almeno credo che voi vi ricordate raga ho mai trovato loot nei vasi? credo che potrebbe essere per pullare i mob in modo che fai rumore fai un passo di qui no? però adesso devo perché sono così tanti turni? scusami allora ricarica 4 turni prima non era 3 turni raga dell'1% johnny aumentava la ripressione del mana non mi sembra un numero così importante enchantix ok il forcone lo posso lasciare vabbè lo prendo ma tanto lo butterò perché non ho slot recuperiamo mana ok mangia che buono bevica ho sete oh shit ma scusami domanda se io sparo la palla di fuoco qui raga loro passano e si incendiano tutti? credo di sì e richiudi e fuggi ah lui lo prendo non so come ma lo prendo minchia che l'ho crittato eh non fai più il gaggio eh non fai più il gaggio il topo ha rotto la porta a testate raga è un fottuto topo ragno devastante l'ho ucciso boom again ho sentito il potere del critico hmm johnny devi morire calcione scusami quanta vita ha 14% ora critto con la spada l'ho uccido 17 come doppio blocco ok ascia barbuta sempre piaciuta ascia barbuta quanto fa di danno? 25 di danno questa roba qua va bene mettiamoci la ascia barbuta trappole non ce n'è ma che cazzo com'è conferma qual è il tasto? ok ma l'ho scassinata ma non riesce beh la gioca con i 42 thank you so much for the support welcome back signorini ricordo a tutti quelli che volete supportare lo string di pigiore il tastino abbonati ricordo di via con il prime free questa è una mano non credo cos'è un goeden gag? beh non mi sembra però fa danni sia penetranti che da impatto magari ha più range della lancia può essere però vedo che la duale non è male ok allora questo lato l'abbiamo cleanato non ci sono i letti nei dungeon sì ma perché il cooldown di sta merda di fireball è diventato così lungo ok è uguale a goeden bang però questo vende a 33 gold quindi per la lore hai visto Alexander bravo happy birthday happy happy birthday dai dai spiazzamento spiazzamento bene di free con i 26 grazie rufo per il follow benvenuto ciao jake ma basta lanciarmi le cose se tu guardi se tu guardi le stats con le due armi noterai che ci sono dei debuff o meno efficienza sicuramente ti frecce si prende si prende la mia offensione non non mi simultaneamente ok danni anatomici danni di attacchi infliggono le parti del corpo danni all'armatura penetrazione all'armatura precisione ok mi calo un pelo la precisione mi aumenta il critico mi aumenta il critico massimo mi aumenta il tentennamento ok ah fai la metà del danno quando tentenni questo valore viene ridotto con i pugni di due armi simultaneamente ok il costo di abilità mi costano il 14% in più tempi di ricarica il 15% in più sull'espell non dovrebbe cambiare nulla no vedi il potere magico non cambia bella Jake con i 33 welcome back proviamo a tenere la staffa un attimo come fallimento porca puttana ho finito i cremantelli fuck loot fuck cos'è maledizione ah ok minchia questo è un caster scheletro monaco ma vaffanculo ah gli vedi anche il cooldown del suo spell l'avete visto adesso fa vedere che ha tre turni ah no adesso ce le ha tutte e due shizuko con i quattro grazie mille per il supporto e per le belle parole love you love you welcome back oh look at this bitches look at this mi rode che ha più pezzi di te e perché ha più esperienza intanto lui è morto e io no quindi avrà più magia ma è meno scaltro prova il fuoco su una porta vediamo no è fuori portata la porta è fuori port la porta è fuori una chiusa ah minchia la sfondo di spell ma che ignoranza bonkers oh shit le posso anche chiudere con la magia no dobbiamo prendere il vento per quella ah effettivamente ora c'ho no il misclick oh shit enchanti oh ho sbagliato ancora ok we did it prezzo a punta di foglia falcione scadente non mi interessa forse però allora tipo questo è quanto vendono 70 gold il falcione scadente 56 quindi più worth tenersi le roba a una mano vaffanculo allora direi di pigiare la R e aspettare e però vedi adesso non c'ho non c'ho la vita full perché c'ho la testa un po' biribiri no qui c'è una trappola dimmi che si è aperta che palle vieni qui vigliacco beh però qui stiamo andando abbastanza non dico lisci però l'ha detto una lancia non identificata ok trappole non ce n'è lalla non c'è più ma se lo vuoi quando si sa cos'è dobbiamo uccidere e trovare una statuetta figa se sono entrato di ignoranza qui e raga io ho un po' di paura di aprire sto coso ce l'ho perché se mi pop ancora e se noi uscissimo salvassimo e tornassimo e come non farlo allora c'erano i guanti prima c'erano i guanti verdi e lo so che devo trovare il negromante però non ho oh baby una giacca lamellare oh 600 gold questa la prendo arriva satana già lo so vediamo se per risparmiare slot me la metto a me è comunque meglio della mia mi da qualche debuff energia meno 9 va bene rigenerarsi in energia meno 2% va bene mi toglie il 7% di schivata però mi da delle gigaresse la mia la butto mica però anche la mia vale 250 questa accetta qui 400 what the hell abbiamo fatto i money raga fibbia d'argento buttiamo questa ci teniamo questa per i tutti i buff magia potere magico 3% minchia 3% cosa vuoi che sia lo so che è danneggiata quella che ho preso raga però in ogni caso 20 meno 8 cioè dà delle resistenze questo non dà un cazzo scusa fa vedere probabilità di schivata misce nel 7% va bene la rigenerazione di energia invece che 21 il 18 però 12% di resistenza al sanguinamento 3% di resistenza al movimento che non so cosa sia il resto non cambia niente no no io tengo questa raga ma la schivata quando mai schivo johnny quante volte mi hai visto schivare oh go oh cazzo minchia ho sperato fosse necromante invece è un fottuto sacerdote piano pianino ok ah se siano utilizzati no dai questo smetto di aprire perché tanto non c'è nulla dentro bello bella giovi con i 4 che bel gioco scheggia di pietra what 1 2 3 4 oh shit swing a johnny uccide calcio oh baby mi sa che mi devo tenere comunque rimanerli per le chest e le porte spaccarle sempre ora lo so ora lo so ok fuck vabbè ho usato due turni uno per raccogliere uno per buttare giù non escono che vigliacchi che vigliacchi eh Houston we have a problem dai fai passettino lì non è il momento di riposare non è il momento di riposare eeeh oh murda enchantix oh baby eeeh ci scottiamo un pochettino va bene doggiamo la freccia lui spunta gli spazi no mi è scliccato ancora niente tu easy tu easy la madre del viandante la merda ciao debbie è morto più di 30 volte ma non è vero raga credo di non essere ancora mai morto perché dovete dire queste bugiardaggini vediamo se qua dentro trovo di grimaldelli magari il gioco è buono siete sono invidiosi che voi non siete riusciti a fare il boss del tutorial ah minchia ma sempre lo perdi il loot così c'è proprio fisso eh vaffanculo merda abbiamo perso tutto il loot dell'unico dungeon che siamo riusciti a fare raga un metapino non posso arrivare al 100% perché ho le ferite anche se rimango seduto non sale ah invece si no però passa un botto di tempo si ok sale perché passa il tempo tipo più velocemente però mi scende anche la fame ragazzo le vacumbe ragazzo le vacumbe so il fatto mio contro i non morti no cazzo è passato attraverso la porta fottuto non morto allora fermo fermo esamina 50% di vita però 3% di energia non può castare posso solo picchiarmi rimini lì enchantix ormai ho masterato il gioco ok ok 1 2 3 8 5 dai perché non me l'ha chiusa ah così ne stunno ok e poi enchantix così rimane stunnato sul fuoco e poi tala rapumpide niente è andato tutto a puttane raga oh shit ok perché non casta come fuori portate ma l'ha tirata giù dalla tromba delle scale ma sei un cretino cazzo ma sei veramente un deficiente giucciuma la dovevo chiamare giucciuma ma dove cazzo l'ha sparata l'ha buttato giù come l'immondizio dei tubi delle case vecchie ma porca puttana sono qui a lottare vaffan con il calcio nei maroni è morto ah the ancient technique the ancient technique ho livellato raga serve più danno assolutamente forse danni a distanza precisa probabilità di colpo creativo fortidità visione portata bonus si portata bonus vabbè 20 volontà mi pare una build bilanciata allora e potrei tenermi il punto a sto punto per cioè non c'è bastoni tipo no c'è atletica affinità bellica non mi interessa abilità di base pugnalata no bastoni tempesta di colpi effetto due attacchi che infliggono meno del 60 cosa vuol dire meno del 60% ah che fa cosa vuol dire raga effetto due attacchi che infliggono meno del 60% dei danni ce lo curo il primo attacco è caratterizzato da 40% prosciugamento vitale cosa vabbè OP raga allora questo c'è il primo colpo che ciuccia vita il secondo che stunna e se itti con tutti e due fai un terzo colpo che lo spinge pure via ma si è sicuri che il mio è un bastone cioè si dai si è un bastone raga io specco bastone tempesta di colpi cazzo fututu minchia divento wukong cazzo adesso qua esce necromante oh cazzo che schio ho già visto io che schio ho già visto ho rotto il culo prima oh furia cavallone ah fammi capire quanta vita ok non tanta uno due tre atto eh prosciugamento dei miei coglioni non ha prosciugato un cazzo dove è andato è morto è invisibile porca tuttana stronzo eh quanta vita hai 35 oh shit tutto fatto no allora l'unica è provare a dargli il calcio no raga non voglio morire allora chat decidete chat spam 1 gli diamo il calcio chat spam 2 facciamo enchantix chat spam 3 gli tiriamo la raffica ardente 1 1 3 1 2 bacialo no ho detto bacialo prima che lo scrivessi no quanta vita è 35% quindi è tipo 6 credo che gli faccio 1 enchantix uh uh non so perché non so per come ma ho ciucciato della vita ma come 40% anche lui l'ha ciucciato a me ci siamo curati a vicenda secondo voi il calcio funziona? no uh 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 not dead e poi non dite che non sono uno che accontenta tutti c'è chi ha votato 1 c'è chi ha votato 2 c'è chi ha votato 3 io l'ho fatte tutte solo per voi minchia 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 allora facciamo così swap a quest'ascia di merda e la butti no il cazzo però vale 140 gold questo la buttiamo 200 gold 33 gold via questa la tiriamo su dobbiamo prendere sto bare strozzo ok il cappello più 1 protezione senza sanguinamento il mio è quasi rotto lo dovrei anche riparare ci mettiamo il cappuccio nuovo così ci da anche uno di protezione e via abbiamo i money eh sì esatto mi sa che di succhio il mana non la vita ma non so lui come abbia cioè io mi sono curato a un certo punto forse no come mi sono curato non ho capito non è ripran mage poi la troveremo la roba da mago ma questa roba qui è roba base merdosa sì ma raga io voglio fare voglio andarmene dai basta macumbe oh shit ok ferita la gamba lieve aspetta ferita la gamba lieve che ripercussione ha dolore sto percependo dolore raga come faccio a farmi passare il dolore ed credo che io debba steccarla tipo provo a mettermi non credo oh shit che sveglia che mi ha dato minchia che botta raga e ci posso bere sopra sì ma non no raga troppo forte l'arciere oh what the hell ha finito le frecce forse non mi frecciare Johnny come l'ho schivata parata no enchantix ok cos'è quella cosa lì confusione ma perché sto dormendo tutto fatto e faccio i sogni strani raga moriamo se andiamo avanti cioè nel senso non è che c'è tanto da dire io direi allora quanto tempo abbiamo ancora per farla questa un giorno se andiamo a dormire si spuntano la quest vita di merda eeeh no ma moriamo me ne vado raga cioè è esatto anche secondo me se non me ne vado anche perché c'è anche la possibilità che magari è talmente lungo la guarda che c'è la confusione c'è anche il pg che cammina banana guarda cammina come cazzo vuole lui cioè ogni volta che procca quella roba lì il pg si muove a pera come minimo mi tira dritto su una trappola e muoio no era giù di qua l'ingresso mi pare no guarda guarda che va su tutti i giri strani non sono io che lo muovo così stupido e concentrati porca troia si concentrati ho due slot posso rubare qualcosa con due slot no no peppiniello non mi andare su quella trappola ti prego ok ah vabbè abbiamo abbiamo livellato comunque dai andiamo in città dormiamo vendiamo quello che c'è da vendere ma la confusione non mi passerà mai più sembra mezzo spigire incoglionito oh giù di uno due tre giù di quattro tre e occhio agli orsi sto a bordo mappa guardate due ammetto che il fatto che sia andato via l'audio per un attimo la musica mi ha spaventato ma le cure non ce le ho johnny cioè le cure non esistono cioè c'era la puzza ma costava un trilione c'ho anche sete cazzo però non ha più fame avete visto gli si è stretto il culo gli si è chiuso lo stomaco e se prendo la trappola per orsi johnny sono confuso metto giù la trappola come minimo ci vado dentro io ma dieci su dieci proprio devo zonare ancora di uno in giù vero? sì dobbiamo fare ancora la missione di quel pirletti del coso per i fiori come non sono più confuso? non vedi? non vedi pg che si muove tutto stupido a volte? non sono io che vado in su beh l'Avast con i tre welcome beccherino allora no non sono io che cazzo sono deficiente allora vabbè vendiamoli tutta sta merda qui tipo l'accetta quanto me la compra 130 va bene la spada me la tengo il forcone qua glielo vendo la balestra credo di doverla dare all'altro fibbia d'argento scopriremo a chi va venduta dente dorato secondo me questa roba qui è il mercante a destra non è che è meglio dormire prima? no non credo gianna avverte del dolore però vedi sono stabili le cose ma minchiera il carpentiere è lui? dove sta andando? ma dove va? porca puttana posso andare a dormire? è passato un giorno? e devo comprare anche i grimaldelli? sì devo pagare dove mi? c'è un po' mai sta pelle di bisone ma cazzo piegala la metti sotto al letto no? ma porca puttana alloggiare 10 corone vaffanculo devo anche riparare e lo so che devo riparare l'armor devo fare un po' di robe però prima volevo provare a dormire per vedere se mi si fixavano tutte ste robe brutte qua no te oxer ok allora aspetta se mi serve il cibo perché mi è rimasta solo una salamella qua mi ricompro anche questo che no dai ok la cibazza ce l'abbiamo oh lui le forchette qui me ne paga 98 eh però è un po' un pain sta cosa che devi trovare il vendor giusto per le cose cioè finché non sai dai voi non ci sono mai me ma non lavora nessuno qui figa la città dei fancazzisti chi è questa? Ida vaffanculo Ida questo scappa sempre ma ti sto in culo oh ok 150 lui non devo dare più niente e alle otte sono le nove del mattino è notte alle nove del mattino allora dove era fame sete ce l'ha ancora ok riempiamo la borraccia 80 mi dà un pelo meno mi pare lui dell'altro però mi dà un botto per queste quindi il fabbro era quello che pagava meglio quelle robe là ah qui cos'è il tomo di geomancia armi a distanza pugnali Ash figurati c'è tutti i tomi del mondo tranne ci ho pagato 45 per sta cosa e vale 7 gold ma che stiamo impazziamo sono stato hard scammed quanto vale 20 120 vediamo il tipo qui no forse perché a lui non gli interessa un cazzo vediamo da lui 20 120 uguale 20 gold non c'è più soldi questo l'ho sbancato raga ah ma non c'è tipo un taylor raga quello che vende la roba da mage mi sembra strano ma scade fra quattro giorni minchia il mio tessoro c'era quello dei tessuti e dov'è che gli vendo pure quel cazzo di di pelle enorme che c'ho almeno posso mettere giù la roba sinistra del pozzo ok magari ha anche che ne so i bastoni piuttosto che no perché c'è un altro ah perché non aveva i money quello quindi cioè devi anche stare attento a chi cazzo vende la roba perché finiscono i money che roba giù con i 28 welcome back grazie giù vabbè gli diamo a lui regà che ce n'è un po' di soldi la salsiccia è infinita no ha quattro utilizzi la lancia la vendiamo a lui ah no gli vendo un cazzo perché non c'è i soldi oh lui mi dà 100 gold fammi capire tipo lei quanti me ne dà non la compra nemmeno brutta troia che non vuole la lancia tu 34 e il e il lamber 50 va bene affare fatto Gianni affare fatto Allora, a sinistra del pozzo Non è questo Questo cosa vendeva? Ah, sì Allora, questo ne sembra un bel cappuccio da mago Costa solo 2646 Vabbè, abbiamo 2000 Abbiamo dei boots Questi costano 4... ah no Ah no, quelli sono i miei, che cazzone che sono? Ah, vediamo Quanto costa ripararmi i boots, tipo? Eh, 35 gold, direi che Per adesso, invece che comprare Ripariamo Mi è costato 500 gold Aggiustare la Ciappa, me li riprendo, cazzo Cioè, quindi vuoi dire che se riparavo dal... Forse dovevo riparare la chest dal coso, regà Dal blacksmith Lui mi ha fatto pagare... Vabbè, mica il gioco del venire scammato però, dai Cioè Non si fanno queste robe qui Pezzo di fango Porca puttana Ti svaliggio la casa di... Uh, la cintura La vita è schiata a 4% Rigenerazione... eh? Efficienza vitale? Ce la compriamo una belt Una bella belt 390 gold Ah, comprala Eh, figurati I soldi degli altri va bene Giusto perché è rossa Ed è bella, bella, bella In modo assurdo Allora Vorrei una pozza di vita E secondo me è questa la pozza di vita Ma può mai che costa 600 gold una pozza di vita, regà? Cioè che ti dà 35% di vita e finita lì E mai i cappucci costavano 3000, blood Chissà questa? Però questa però ti dà intossicazione Non voglio intossicarmi Ah, la stecca, bravo La stecca era... Ah, ho detto che mi serviva Ne compro anche due Tanto che se costa un poco Ma calda la butta La pomatina qui ce l'abbiamo La... Le bende ce l'abbiamo We are ready to go Ops, io poi glielo riprendiamo per la quest Andiamo a vedere se il tipo mi dà le quest Ma... Not a joke Ma teoricamente Una è scaduta Quindi dovrebbe darmela Tu 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 I'm a wizard My cubitures Al momento no Alcunoc trova Vaffanculo E i Grimaldani dove si comprano, regà? Il Fabbro, non l'ho visto Chi è che ce li ha? Bravi che me l'avete ricordato Tu? No? Sì? Fica, sono una stacnea Porca puttana Bastone rinforzato 24 danni Mica, 900 gold Garantisce lo scassinamento di una serratura O il disarmo di una trappola Ma non è meglio piede di porco? Cioè, 100 gold A 10 utilizzi Questo costa 50 Ne ha 3 Ah no, il cazzo 3 si si rompe Quindi in realtà Ne ha di più Vabbè, qui abbiamo già lottato in giro Quello che c'è da lottare Eh sì, no Esatto Quello che ha 10 utilizzi fisso E dovremmo aspettare la quest nuova Regà Non so cosa Cioè, o che dormo una giornata intera Dormo fino alle 9 del mattino dopo E dovrebbe, spero, essere scaduta Sì, dai Adesso mi sveglio P.G. è morto Disidratazione grave Ok Puoi comprare una casa tua in città Al momento Non dice niente Riguardo a sta roba Oh, fammi comprare un'altra salsizza Va, che Ma cambia qualcosa fra ste due Fammi meno 20 Resistenza più 5 Fammi meno 25 Resistenza più 10 145 Minchia, mi do la salsiccia Salsiccia best cibo E non va neanche mai a male Ah, il reliquio era rubato Mi interessa Poco fa Una maniera di razzizzazione Dependendo del monastero locale Qui bastare hanno sgotato Tutti i monaci Si sono impossessati Di parecchi oggetti di valore Tra cui il reliquio E il monasterio Il monasterio Rubare oggetti sacri Non si può cadere Più in basso di così Tuttavia le vecchie abitudini Non sono venute a morire Dovrei aiutarli a crepare Abbiamo già rintrattato Il profanatore In questo momento Se ne sono rintrattati Presso la fortezza Rivstein Voglio che tu vada A insegnare loro Una lezione Uccidi il loro capo E recuperare il reliquio Allora credi di potercela fare Credi di potercela fare Mi dice Un crociato di dita Go Fortezza di Rivstein Ah Medio Regà Uno, due, tre Tre destra Due giù Easy clap Let's go Mi sono indicato una strada Allora Uno destra Altri due destra Bella querti con i cir Amnesia con i 28 Uuuuh Guardali chi mi vuoi E no eh Cazzo tre no Heat box Sono due quadrati e mezzo Cosa sei Elastic man Enchantix Oh baby Ho capito? Don't fuck with me Mother trucker Dove è andato il vigliacco? Bastardo Ah è vero Non ho usato minchia La oli Bastonata Of Vaffanculo Lascia starmi Bravo Mi sono scordato Ah siamo Qui ora Quindi devo zonare due volte a destra Quindi uno Non si luta Tanto ma sto andando a fare il dungeon Sicuramente lì ci sarà il mondo di roba E La roba lì non vale un cazzo Io non capisco come faccio Ah Devo Nel mentre che tengo pigiata il tasto per correre Devo cliccare E parte tipo lo sprintone Oh Oh Look at this I'm a runner Red La regala Pasi the beast Thank you Johnny Grazie 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 Per il supporto Perché non vai a finire il dungeon sopra Danto che ormai avevi ucciso tutti E perché ormai non ho più la quest A questo punto conviene tentare di prendersi una quest Fin dall'inizio Perché c'è la strada Giusto A vedere di finirla Poi prima o poi ci passiamo di fianco Sì possiamo vedere magari scendendo se Magari c'è che ne so La tipica cesta alla fine Boh Dove nemico? Dove regà? Questo non l'ho visto Ciao Diego Pim 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 Eh che cazzo I'm gonna chase you Bitch Uh c'era la quest che voleva la mannaia il tipo vero? La mannaia è qualcos'altro Uh triplo hit Calcione Swingata Pizzarella Enchanti Madonna mia raga Ma ormai sono godlike Ma c'è E ti ho visto cosa ho combinato lì? Non ha capito niente lui Ha iniziato a fare FUTU 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 Ruotavo il bastone nel mentre che Pronunciavo parole arcane Come mangia? Mangia a papà Ma cazzo Mangia a papà e bevi a papà Cazzo Non ho riempito la borraccia Porco di eagle Guarda come l'ho benito sulla trappola E si è aperta una porta Bella cinema Dai metti fuori ancora la faccia Please Tiu 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 Tutto bene? Fuck Guardalo lì Enchantics Raga Troppo forte Cosa diceva la quest? Non c'è più? Ah è quella che ho completato Niente mannaia allora Però Mi pare che io ho uno slot libero Perfect E ci mettiamo la mannaia Mi ha fatto venire in mente Quello streamer di WoW Che gioca con il controller Il suo PG è un mago del ghiaccio E sto tipo streama vestito da mago E fa gesto imitando il suo PG Quando lancia gli incantesimi Se corre in game Corre sul posto in cam Non ti dico Se muore Viene Trascinato What? Ve l'ho sempre detto Che giocare a WoW fa male Abbiamo un forziere Ah ah Un'antitossina Sensibilità Intersicazione Meno 25 Però mi dà un botto di fame Un botto di sete Però le vie postumi Ok Quindi potrebbe essere good Dopo che ti imbriachi Io gioco a WoW E lo confermo Mi curo camminando sul posto Fing E' il dottore Che gioca a WoW Dottore sto malissimo Faccia 25 minuti Di ciclette Un quarto d'ora di step E guarirà No dottore Mi dio un aspirina No guardi Mi dispiace ma Questa settimana Ho già ucciso il drago E non ho gli ingredienti Dobbiamo aspettare il reset Mercoledì Non so Ci sono ancora Le cose settimanali Su WoW Che quando giocavo io Ero così Adesso non credo Cioè le instants Non si risettono più Una volta a settimana Ma ancora così Minchia Che palle Uh L'acqua Che culo Un panino Un porro So che l'ho già detto L'altra sera Ma ora che ho il porro Posso fare Ut perché c'ho morto lì? Cioè un mob ha camminato Sulla trappola ed è morto? La sciabola? Che sciabola? L'hai mai giocato Undertaler? Cos'è Undertaler? È Sans che va al wrestling? Undertaler è Sans che Già in alla WWE? Se l'è Undertaler? Un rocchetto Dove la società nell'altesimo Vabbè 25 gold Uh Trattato scuti Vabbè Io lo leggo Lo imparo E visto che vale 750 gold Vaffanculo Me lo prendo E me lo vendo Ma questo dungeon Sembra per il momento Più tranquillo Rispetto a quello Che abbiamo fatto prima Ok Ok Ciao Sembra Sei diventato Un branco di lupiti Ha strappato la faccia Morsi Dai che sto capendo Stronzo Non è easy Sto gioco Però ormai Sta andando Decentemente Tiè Ciao Annabelle Oh cazzo Che skill è Ovi riltozzo Oh merda Ma porca di quella Puttana Stronza Impestata Di Ma Chi è che ha lasciato lì le robe? Chi è che ha lasciato lì le casse? 777 Come il televideo Via Via 1 3 4 E ora è il momento del clutch Esamina 30% di vita Allora Calcio Into bastonata Into Enchantix No ho raccolto il borsetto Non ho visto quanti mani Ah 21 Unisci Mazza Rinforzata Va bene Dobbiamo mangiare No mi mangerei prima Ste robe qua Che è sta roba? Porro Per caso urli anche quando fai la cacca Si terribilmente Quello ha un fottuto M4 in mano Cos'ha in mano? Mi sparano che impazziscono Ci manca anche uno Si sento bang Spengo il pc Ah come prima Fiammata Si avvicina calcio What? Passo il turno Non se lo aspetterà Però non ho mana Calcio Mi viene avanti Bastonata Che costa mana? Ti do la legnata in faccia Cazzo 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 che non ti posso Ti beggare Perché i comandi Sono limitati Il gran visir De TG reward Ok Quello per la quest Ora senza spoiler E senza googlare Mi dovete dire Che cazzo è un Saiga Appassionati di Gheo in Gheo Sale è un Saiga È un tipo di cammello Un antilope Una capra Un tappeto di pelle Un animale cornuto Una specie di capra Figa avete detto 57 animali diversi Un antilope È a sta coda così L'antilope Va bene L'hanno scoiato A forma di dino Un pezzettino De furmace È buono Eeeh Va bene che vale 200 gold Però All'attanto il fabbro Ha finito i soldi Capiamo le pelli Va Che quel barbone Del fabbro È finita la quest Raga Consegnare Easy Clap Cioè siamo arrivati Abbiamo preso Abbiamo fatto Piazza pulita Abbiamo ucciso tutto Gli abbiamo spaccato Il letto E le foto Della famiglia E ora ce ne andiamo Ma non prima Di aver esplorato Anche l'ala sud No Tanto ci sarà Poca roba Esatto Esatto Siamo andati Siamo andati qua a sinistra Sì Presto presto Via via Noi siamo qui Uno due Tre Uno due Quindi tre a sinistra Due su Ah se ne No Non riusciamo neanche a prendere le erbe Non ero andato a sinistra Ah cazzo Andiamo allora Ok 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 Ero convinto di sì My bad My bad Chiaro cazzo Tium 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 Shit Marrano Ma perché ascolto la chat Ero già a consegnare la quest Domani è un altro giorno Che domani è un altro giorno Dimmi che sapore avrà No 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 Shit Mamma mia Se Ho fatto una cacata Ok It's ok guys Eh dovrebbe essere morto questo no 16% Teoricamente No minchia non scappare Che ti curi Che pain Ah 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 Manchia che sveglia Ragazzi Ho sentito la cattiveria Ah E là Non c'è più Allora Forcone Mazza chiudata Eh ma veramente Ci sono ancora mob Perché non la chiude Fuck Oh shit Oh shit Ma che roba cazzo Mamma mia Mamma mia regà È diventato giga cattivo Il mio PG E ho trovato per la prima volta Una roba in una chest Però credo che il drop rate sia talmente basso Che non valga la pena aprire tutto Cazzo Però anche il furmace No dai Posso mai passare la vita A rompere le cose Un ligotto di Dobbiamo spaccare tutto Tutto Devo divastare tutto Cazzo Secondo voi c'è roba dentro Non so se me la Dite che me la farebbe vedere Il mouse Secondo me no Alla fine sono prigioni Che cazzo c'è dentro una prigione No però spaccare tutto Regà ci vuole troppo Voglio essere onesto E ormai non li ha aperti Sì Ho aperto tutti Allora abbiamo detto Tre sinistra Due su Giusto Presto presto che è notte Ci sono i banditi Gli sturatori Via 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 Devo bere E beviamo A uno Mostraci i soldi Tutto stronzo Te l'hai il prime E allora abbonati Altro che mostraci i soldi Mostrami il prime Bitch Noi scappi Vigliacco Codardo Schifoso Come mirate alla pancia Ma che cazzo sono? Non ce l'hai mirata Alla pancia C'ho il pg Con gli hitbox grossi Alla pancia Mi sembra snella No eh Avete rotti i coglioni Non è che potete essere tutti Sulla mia cazzo di via Bastonata eh Bastonata Sei Calcio Ench Pana di fuoco What? Non è anche sotto la carne Quindi go Abbiamo zonato una volta sola Quindi devo fare Il terzo a sinistra E poi su E là là Non c'è più C'è fidanzata ormai Oh ci sono le lucciole Proprio come a Milano Bravo curo Così si fa Costano troppo Qua sono gratis Corri 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 Ah Toregamente Zoniamo una volta E siamo in città Qua lo fanno per amore Esatto Allora Fortuna che abbiamo coperto le stecche Cazzo Se no Finiva male Stiamo consegnando Dopo la bellezza di tipo 6 7 8 ore di gioia Non lo so quante ore abbiamo fatto La prima quest Completata Al 100% Ecco Sono qui per la mia ricompensa Ho completato il contatto Non l'avevo rubato Sapevo che la mia ricompensa La sei meritata Boom Così poco Al momento lo possiamo Nei misteri o prigionieri Ti interessa Sì Come io speciale Qualche giorno fa Il mistero della magistratura L'ha segnato al nostro villaggio Che era segnato al nostro villaggio Era diretto a Brin Per consegnare i suoi rapporti Ai me Gerdel Con i 23 mesi Diglielo Johnny Ricordatevi di fare il pollo Ragazzi Piggiate le tastine Abbonati se volete supportare lo stream Se avete Prime Lo potete fare gratis Se non avete il Prime Veramente Non volete spendere 5 euro al mese Tanto non potete neanche più uscire Cioè Prima avevate la scusa Eh no amica Devo comprare la droga Non ci potete nemmeno andare Dallo spacciatore Perché C'è C'è Covid Cioè Adesso figurati Prima già vedere due incappucciati Che trafficavano Era sospetto Adesso due incappucciati Con le mascherine Porca puttana Cioè Vi sparano Fanno prima Quindi State automaticamente Grazie alla pandemia Risparmiando soldi Investiteli E supportate lo stream Ah Ah Eh Si sono sbarazzati velocemente Con i guardi di messa Che hanno poi Bravo Thomas con i 41 E Xwerin con i 43 Thank you bitches Sani i principi Vabbè ma perché alla fine Si sa che sono tutti dei droga 25 euro come l'erba scaccia Esatto Ti dirò la verità Tutto questo non mi rende particolarmente triste Quel tizio è un vero smidollato Un grande incapace Di ben poca utilità Tuttavia la magistratura È già corsa in nostro aiuto Più volte durante questi tempi incerti E non sarebbe saggio Mettere a repentaglia I buoni rapporti Che ci legano le autorità Se il mister non dovesse Perdere anche solo un capello In questa faccenda Potrò dire addio alla mia testa Quindi sono pronto a pagarti Profumata Profumamente Così sia Tre giorni Andata raga Bella Ale con i sei Welcome back Qui dormono sempre Non c'è voglia di fare un cazzo Nessuno In questa città de merda Ma non che cosa vendi Nel cibo sono a posto Ma tipo Adesso gli dico che Hai capito Mi ciuccia 10 gold ogni volta Fanculo Cioè ho pagato 20 gold Stanotte No Johnny Niente Allora abbiamo Ste robe da vendere Avevo due cose di alco No Questo lo lascio giù Questo pure Queste le vendiamo Queste le vendiamo Questo me lo porto Vario cibo me lo porto Il lingotto lo tengo Questo lo devo vendere Questo cibo me lo porto tutto E vaffanculo Tanto eh Una stecca a sto punto La lascio giù Dormiamo fino alle 10 Fai Con 5 euro Spacione ci prendiamo Massimo robosmarino E pressione Scusatemi Non Non utilizzo Sostanze stupefacenti Sono stupido di mio Allora Ah Ha fatto i money Puoi vedere un attimo Lui quanto mi costa Riparare sta roba Eh Non me la riparo nemmeno Perché Ah vedi che non è di metallo Regà Prolamillare No era giusto allora Allora Il libro Chi me lo compra Vediamo se arriva Il merchant qui Perché lui li vende 38 gold Dai ma che porcheria è Dai 38 gold Se sei un merda Sei Ah lui la volpe 150 E questo 75 Vabbè glielo vendo Lo stesso In caso dopo Lo rivende a 585 Eh Anzi il suo è il 2 Io gli sto dando il 3 Figa Power to the merchants Vattela a fare in culo Allora 150 75 Vedi uguale però Eh Io non è che me lo No il libro lo compra Solo lui Raga Eh va bene Che devo fare Stai mangiando del pollo Minchia Mi ha appena messo voglia Di mangiare Avete presente Che poi tra l'altro Non l'ho mai mangiato Però A volte sogno Di essere nudo E mangiarlo Avete presente Quelle robe Che mangi al cinema In In America Che ti danno tipo Il Che si chiama Il barattolone Non si chiama barattolone Il bicchierone Di cartone Con dentro Le ali di pollo No non i popcorn Le ali di pollo Però quelle che ti danno Al cinema Sì ma non puoi comprare Un abbigliamento Più potente E C'ho 2000 gold Un cappello costava 3000 Che abbigliamento Mi compro Mal che vada Mi prendo la camicia Da notte Cioè non ci stanno Più di 2000 gold Dentro la sacca Veramente Perché sento Minchia di essere Scammato Ogni volta Che faccio un passo Su sto gioco E certo Che l'ho buttata L'altro Ho detto Cosa mi serve E vabbè E vabbè Mettiamo giusti Roby E ci vuono porto tutto La troveremo Dai speriamo Dormiamo un'ora Meno salva Quel di Milano Avete KFC Abbiamo anche Starbucks Non ci sono mai andato Ancora Non sono tanto fan Di quelle robe Ah è Castello Inver Ah ma è sempre Qui vicino Regà C'ha praticamente Le prime quest Erano più hard Di quelle dopo Tre volte in giù Mi compro un nuovo Borsello Col cazzo Che gli do i soldi A quei mercanti Lì Cazzo Ma lo faccio io Nuovo di cinghiale No Ora il cinghiale Lo devasterò Ora che ho masterato L'arte del combattimento Ma il male rimane Fortissimo Però Regà No Castello Inver Lo stesso Dove prima Avevo difficoltà Alta Sì Solo che Ora è diventata Media Però vedi Ah se io sto giù seduto Che mi risale Fino a 100 Lentamente Perché si ripara La testa Quindi ragazzi Quello dico Se vi fa male La testa Basta che voi Andiate in un bosco Vi sediate 5-10 minuti Un quarto d'ora Tutto passa Tutto Posso dirsi una cosa Che nel gioco Non viene spiegata Dimmelo Però non deve essere spoiler Eh Se no mi chiatamo Un cinghiale Ti schiaccio Cavalcando il cinghiale Si è appena dimesso Il tuo datore di lavoro Chi K Si è dimesso Ah minchia Sì Prima qui Dove mi hanno deletato Però non avevo Quest'arma Orgeggendaria Del vaffanculo Un po' più là Vabbè Ma non Ah Arrivato a un certo punto È un po' come il papa Cioè Sei un po' un pupazzo Non è che sei tu A fare le cose sugli altri Quindi Cioè Può cambiare il pupazzo Ma chi muove i fili È sempre lo stesso Quindi Salutiamo Eminence Che Prima della mezza Ci guarda sempre Per darsi la carica Ciao Eminence Stavo scherzando Se è un complottaro Credere che non sia così È come credere che Quelli del grande fratello Non sono attori Poi c'è chi ci crede Porca puttana Senza antics Senza antics Fuck you Via E vabbè E vabbè Poco alla volta Curo Poco alla volta Ma che Ho sbagliato 50% Mi sa che lo pia nel culo qua Ah eh Lo sapevo E vabbè Che sfiga Mi ha pure stunnato Aspetta Aspetta Bravo Aspetta Lo dico io Parli Bravo Bravo Aspetta 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 Un cazzo Aspetta In qui Mother Tracker Dammi nel mana Dammi nel mana Troppami una pozza di mana Mattafrusto lungo Penso sono simpatici Come dimensioni degli item Hanno fatto gli item full screen Proprio apposta Per romperti i coglioni Le forchette le avevano vendute Decentemente Prendiamole Ah Qui E dove avevamo preso La testa del porco No No Non era qui Cazzata Cazzata Level cap su se gioco è il 3 Ma se sono al 4 Non devi tentennare Cazzo C'ho il manuale Mazza rinforzata Vabbè Intanto prendiamola Ciao Zefi Hai visto Zefi Stiamo tirando dritto Stasera Adesso abbiamo appena fatto La quest Della Quella del drago Il problema è che Minchia Avendolo one shottato Non sono riuscito a prendere Il terzo ornamento dorato E quindi ho comprato Solo due città E non tre Però abbiamo fatto progress Oh cazzo Arrenditi Bravo Ma il mana Please Please Un cazzo di mana Ma che sprint Hai fatto Fuck Esci se hai coraggio Allora Allora i dungeon Non escono Ok No teramingo Parti di scherzi Come ti pare No è bello E Gianni Devi essere morto Porca troia Invece no Che schia cazzuto Eh mi sa che si Devo trovare il modo Di aumentare Il regen del mana Abbiamo un piccolo Problema di mana regen Spada Un borsello Easy Hai capito Step Con già un soldino Dentro Perché senza soldino Porta sfortuna Non si dà mai Un borsello Senza soldino Dentro Falce da guerra Sta roba qui Secondo me Non conviene Manco più raccoglierla Quanto vale? 90 gol Ah beh 90 gol Non so Ah minchia Spada lunga Scadente a due mani Fuck Ok Il liquore Eh va bene Prendiamo il liquore Tazza potrebbe risultare Minchia Tre gold Wow Fottute librerie Del Mmm Cioè in mezzo ai muri Passano le fireball Cazzo in mezzo ai librerie Che no Il peso Della cultura On La� On Vabbè L'hai voluto Tu Cazzo el dolore il dolore io voglio capire adesso se io riposo e basta il dolore scende va via dolore 28% allora il dolore è venuto quando subisci danni e ferite dipende dalla tua salute quando raggiungi la storia determina effetti negativi no no ci stanno lavorando bene di brutto allora di uno è sceso era 28 si vedi portiamolo almeno al 24 bella twisted con i 4 anni grazie per il supporto ma frenderone thank you thank you thank you vabbè non so nemmeno se se portarmi dei libri cioè per 30 merdosi gold sono fottutamente un bait e basta in nome di lalla cazzo oh shit 25% oh questi qui sono forti ok accetta del bracciante questi qui sono cazzuti adesso minchia ah no ancora 28 dai riesco a farlo riscendere eh minchia libri delle spell almeno una fireball level 2 non lo so anche perché sto per livellare perché cosa fai se no il livello me lo tengo il prossimo punto fammi vedere un attimo bastoni tipo il prossimo perk per far vaccinare il prossimo personale il bastone 25% danni subiti per 4 turni colpi critici farti con il personale ricondi un turno tutti i tempi di ricarica e ripresa si scaglia contro il personale per poi colpire tutti i nemici adiacenti con un attacco caratterizzato vabbè questa minchia è per la build monaco non è per la build del mage cazzo cioè tiglietti in mezzo ma che ma che oh oh shit eh forse si potremmo buttarci sulla sulla geomanzia fuck fuck oh la madonna minchia se mi ha stalloccato quello questo mi fa eh si questo qua era OP questo qua era OP OP mi ha deletato mi ha fottutamente deletato e via si torna là l'avevo salvato giusto in tempo prima di andare che male raga no il borsello porca puttana il borsello perché me l'hai detto Johnny ah la tauromachia e ora adesso lo ridroppo hai capito figa sono random mi droppo non lo dropperò mai porca puttana quanto mi manca mezzo livello e o prendo l'altra spell di fire raga che comunque cioè il mio danno arriva da qui quando un danno colpisce un nemico incendiato e si ne ha adorato l'effetto però a me non è che sembra chissà che cosa si passivomi da 2% però che cazzo è 2% quando un po' cagare non c'è tipo la fireball cioè non c'è la palla di fuoco del vaffanculo pioggia di magma raggio liquefattore distanza di sicurezza cesso di calore e la giomanzia cesso cesso qui quello lì distrugge un segnale degli spuntoni tutte le caselle adesso adiacenti gli spuntoni infliggono 14 danni penetranti e 3 danni di impatto una probabilità per la 70% di respingere i nemici colpiti eh forse giomanzia potrebbe essere good eh si metto punti in percezione per il range al prossimo prossimo level up prendiamo il range tanto teoricamente se non ci rip o mollo dovremmo farlo il livellino qua ma l'armor di giomanzia ragazzi tre turni c'è venomanzia sì dovrebbe esserci c'era la roba del veleno mi pare non si chiama venomanzia ma sì venomanzia si chiama ok ok allora fallimento non è più un'opzione die Eh, vedi, ho un problema di Regen del Mana però, cioè non posso castare come se non ci fossero domani. Via, questo è un altro full vita. Eh, questo mi fa. Adesso giro ci muoio. Cioè, guarda te, porca puttana. Fuck. Beh, la PTX che è 44, ma stava andando drittì, è arrivato Schede, Schede porti sfiga. Dillo. Cioè, sono morto più volte adesso che in tutta la serata. A parte all'inizio che abbiamo avuto un piccolo problema. No, abbiamo PTX. Eh, sì, abbiamo problemi di Mana. Però dubito che mettere tipo due punti lì possa risolvere la questione. Cioè, mi sembra una roba... ...molto problematica. Devi fare, secondo me, i punti di interesse e compri il mondo. Per l'equipe del mago devo fare i punti di interesse, eh? Ma l'abbiamo fatto qualcuno. Vogliamo fare un giro per i punti di interesse? Proviamo. Andiamo a quelli lontani prima. No, noi siamo qui. Posso tirare tutto dritto e andare qui? Questo che cazzo è? Il vigneto Manshire. Di tanto, questa al massimo me ne dà un'altra, questa scade e via. Va bene, dai, facciamo un piccolo momento di exploration e vediamo. Perché effettivamente non sto progredendo nella mia build, cioè. Servono i libri anche. Anche solo minchia trovare magari come punto di interesse. Esiste magari una libreria, vai, leggi i libri. Solo quando dormi, Fontina. Quando dormi puoi salvare. E ho capito che i venditori di libri ogni volta cambiano, ma costano un miliardo. Cioè costava 700 gold un libro di merda. Ma scusami, non dovrei essere sulla strada io? Forse è più sulla strada? No, il tipo incappucciato in taverna è quello per cui dobbiamo fare la main quest. Cioè praticamente noi dobbiamo fare tre missioni per il tipo dentro casa, che ne abbiamo fatta quanta? Uno? No, forse due ormai. Sì, dobbiamo fare ancora una quest da quello per poi andare avanti con la main. Porca puttana. Mi ha aggrato. Forse uno solo? Oh, non mi ha seguito. Sei libera a piromanzia 2 svolti davanti. Non lo so se... No... Non lo so, sai, perché io ho visto piromanzia 2, non è che mi aiuta chissà quanto. Ok. Come ho fatto a aggrarne solo uno? Quintassimo? Non ho capito come ho fatto... Perché sono sempre attaccati. Mamma mia. Minchontix. Fuck, fuck, fuck. Rosso fibroso. Bella Tana. Bella Tana. Allora, vabbè, io sto sulla strada finché non arriviamo al punto di interesse. O forse è meglio andare in questi due qui. O in questi due sopra che sono fuori dalla foresta e magari... Mentre ci ammazziamo questi che comunque un po' di itzy-pee la danno. Dai, se sei stronzo. Mh, mh, mh. Mh. Shit. Oh, baby. Spegniti fuoco. Dove è andato il codardo? Sì, che i mob scappano alla velocità della luce. Io quando scappo... Mi affaccio. Non ho capito perché. Guarda, guarda. Oh. What? Zonano pure mentre scappano. Vabbè. Credo che sia la cosa più lame che abbia mai visto. Cioè, il mob che zona è la roba più lame che sia mai stata creata in un videogioco. Allora. Andiamoci in formaccia. Beviamo. Eh, ho perso il conto delle volte che ho zonato, purtroppo. Ho zonato tre volte. Ma perché c'è mano questa? Ah, perché l'ho spellato, cazzo. Oh. Quindi tre volte, quindi siamo qui? Quindi devo andare giù. Mannai alla... Era solo per spaventarlo. Eh, ce l'ho fatta benissimo. Sto partendo dal villaggio. Ah, giusto. Uno, due, tre. Quindi devo zonare ancora due volte e poi scendere di uno. Presto, presto. Presto, presto. Efficienza di toglia... Ok. Ciao, Pipado. Allora, andiamo ancora a destra di uno e poi scendiamo. E come la va, la va. E là non c'è più. Si è fidanzata ormai. Allora, qui scendiamo. Però, teoricamente, stando alla mappa, non dovrebbe esserci il bosco. Secondo me devo andare ancora di uno, regà. Anche perché qui la strada scende. What the fuck? Siamo qui? Secondo me siamo qui, regà, noi. Quindi scendiamo di uno, due a destra. Anche in tre? No, l'arciere, cazzo. Un baby che arata che c'è preso. Ah, se ne è sentito il calcio. Lui esce dal fuoco e ci deve rientrare. Non c'è più, se ne è mangiato. Facchio. Un caliente di nuovo è fatta di scendente, quindi se hai molti nemici che ti vengono vicini... Qualche turno per colpirli. Ah, non... Cioè, loro non entrano nel fuoco? Ciao, Saba. Ho problemi contro gli arcieri, regà. Cioè, gli arcieri sono veramente un problema. Perché mi fanno danni assurdi. E devo solo che sperare che mi missino. Arato. Bitch. Bitch. Si chiama Stone Shard. È un gioco in Early Access che deve ancora uscire. Dove stiamo solo che morendo, morendo, morendo e morendo ancora. Quindi devo zonare ancora una volta a destra, teoricamente. Nonostante non è fuoco se possono evitarlo. Per gli arcieri puoi portarti dietro un arco ma a destra. No, che ho qualcosa di più umano per le magie. Ma ho provato anch'io con l'arco. Minchia, ma smira di brutto. Cioè, minchia. Ho sparato quattro frecci a un tipo che era praticamente milì e smirava, cazzo. Le sparava dietro. Smira con piacere, esatto. Smira il dito. Il cibo lo puoi cucinare. Ma ci avevo provato e non ce l'ho riuscito. Qui zoniamo verso l'alto. No, secondo me devo andare al centro di sta zona. Che è un po' più a sinistra. E scendendo dovremo trovare un punto di interesse. E se non è così... Moriremo dal maiale. Oh, a proposito di moriremo dal maiale, raga. Che non c'entra niente. Domani sera alle 21. Alle 21. Apriremo lo stream. Con un gioconeoneone. Ma proprio one. Perché c'è uno stream sponsorizzato. Ma proprio sarà proprio un gioconeoneoneoneoneone. Quindi... E siateci. Mi raccomando, alle 9 poi esisi, poi esisi. C'è una strada. No, raga, mi sono fottutamente perso. Come fa a esserci la strada se abbiamo zonato in giù? Come fa a esserci una strada orizzontale? No, non è raid, non è raid. Magari, cazzo, fosse raid. No, 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 non è raid, raga. Eh, mi sono abbastanza perso, sì. Devo tornare a sinistra di uno. Impossibile. C'era una strada orizzontale. Ah, forse ero qui. E ora sono qui. Ma no, non c'era la curva. C'era la curva, raga. No, non è rasta. Eh, finchè poi è buio, non si vede un cazzo di niente. No, vedi, qui c'è la strada che va giù verticalmente. Finalmente. Dove cazzo siamo? Ah, dite che c'è la strada anche se non è segnato, really? Oh, shit. Vediamo. Vediamo. Allora, qui c'è un campo, quindi potrebbe essere. E dato che c'è un campo, potremmo anche trovare i fiorellini che voleva il tipo, raga. Ah, chi si ricorda che fiori voleva? L'opsilio, poi? L'agrimonia voleva? Dai, qualcuno si ricorda? Ah, è finito, Rust, eh, Paco. Ma come, è bellissimo. Menta piperina. Eh, ok che c'era la menta piperina, ma erano quattro, raga. No, non mi... Oh, baby. E ora calcione, non c'ho mana. Oh, rato. Ah, psilio. Timo. Menta paperina. E agrimonia. Ah, vedi, l'agrimonia c'era, l'ho presa? No, sono uno stronzo. Agrimonia. E la menta paperina. Qualcuno ha visto la menta paperina? Assenzio. Menta paperita. Eh, ma raga, qui siamo ad una crossroad. Ma dove cazzo siamo? Ma non è che sono qui? Andiamo su a destra, riuro, no? Fì, ogni volta che ci ho sette sembra il rumore come se mi tirassero una secchiata d'acqua addosso. Ma che è? Ma è piperina. È spaperigna. La menta spaperigna. Oh, là non c'è più. Ragazzi, non è qui, siamo perduti forever e tirerò dritto fino a quando non incontriamo l'Hydra. Oh, cazzo. Oh, là non cazzo. Ok. Eh, minchia, questo qua con l'ascia è quello che fa un male bestia. Ma non è vero che non vanno nelle fiamme? Ci entrano, cazzo. Oh. Eh, questo è un problema, raga. Oh, che culo. Vieni qua, Mother Tracker. A parte che non ho il borsello io, cazzo. Sono qui che metto i soldi. Vieni qui che ci avrei un borsello, cazzo che te l'ho luto. Vieni qui. Vigliacco. Non c'è un lupo. Via, via, via. Tira fuori la grana. E tu dammi un borsello, dove metterla dentro? Ora la tiro fuori, go. Ti do tutti i miei soldi per un borsello. Deal. Tutti i miei due fiammanti gold. Oh, morto di bleeding. Carbono non ci interessa. Una benda la possiamo prendere. No, aspetta. Per iniziare a salvare voglio vedere sta roba. Cucina. Ah, ho cucinato una ghianda. Buona la ghianda cotta, raga. Mamma mia, settimana scorsa abbiamo fatto la spesa. Abbiamo mangiato le ghiande. È stata proprio una bella serata in famiglia. Allora, quindi dov'era il suo accampamento che ho appena discoverato? Qua. Quindi dobbiamo andare... Quattro a destra. Tutto a destra, raga. Questo è quello che è scappato di prima? No. Eh dai, pure il lupo rompi i coglioni. Lascia starmi. Lascia starmi. Mamma mia. Prenditi i miei crit. Ho fottuto. Easy clap. Ah, ah. Cina, mi devo cuocere ogni cazzo di volta che faccio da mangiare. Guarda che bella la ghianda rosso, cazzo. Ma lo... Non ci hanno malato niente di cibo, va bene. Ma ecco, c'è una carne di lupo, l'ho già mangiata. Tanto avevo la bocca calda dalla carne arrosto. E quindi... Dalla ghianda arrosto. E quindi tutti i sapori si sono miscolati. Ed è stata un... Un... Tripudio di... Di... Di spezie, sapori, acquolina. Fantastica. No. No, no, no. L'orso no. L'orso direi di no. Io continuo ad andare di qui. Presto, presto. No, ma proviamo sta tattica. Oh, ma che roba. Sì, è un pei muoversi. Allora. E cosa troveremo qui? Un secondo che rifillo la sigaretta. Come minimo, raga, qui troviamo, figa, il... Il parco acquatico, il... Non lo so, il... L'Olyukinit. Dove non paghi. Non lo so, cos'altro potremmo trovare. Un... Centro massaggi chatsu. No, scusa. Ok, è qua. Mi serve il riot. Figa. Oh, è anche il punto di interesse, non c'è più. What? Ma non è poss... Eccolo qua. Niente, un altro merdoso accampamento. Tium, tium, tium. Tium, tium, tium. No. Non ho rotto il cazzo che scappano, raga. C'è una feature fastidiosa. Perché poi ti escono dal range, cioè... Fì, è fatto proprio in maniera bastarda. Guarda. Allora, ma no, io non so nemmeno se raccoglierla, sta roba. Dai, cioè, minchia, l'accampamento dei barboni. Ma guarda te. Non c'hanno un cazzo. Noi siamo qua. Ma non è che i punti di interesse sono tutti accampamenti dei barboni? Adesso mi sveglio col barbone che è tornato e mi picchia, guarda. No. Vedi, perché non mi fa cucinare l'arrosto, raga? Fuck. Non ho cucinato l'arrosto, io. Hai visto quanti borselli. Ma perché sono poveri, quindi non hanno bisogno dei borselli per mettere dentro i soldi, no? Cioè, si trova solo questi disgraziati? Beh, la magia con i 22. Allora, due sinistra, uno su. Sennò fare così è troppo più fast. Ah, era già arrosso, ok. Individuato coniglio. Anche il coniglio? Non abbiamo mai mangiato il coniglio. Blum, blum, blum. Blum, blum, blum. Allora. Dovrebbe essere qui? Ok. Oggi, raga, ho dovuto aiutare Marta a fare i compiti d'inglese. Io non ho capito. Level up, bitches! Allora. Danni ravvicinanti, efficienza critica, probabilità blocco, capacità di blocco, danni anatomici, danni all'armatura. No. Probabilità di schivata, contraattacco e scassinamento, direi di no. Danni a distanza, precisione, probabilità di critico, portività, visione, portata bonus. Salute, massima, rigenerazione, salute, energia, massima, rigenerazione, energia, efficienza vitale, eh, forse questo. Però quanto rigenera? Perché sennò piglio critico. Che i crit sono rotti. Cioè, i crit sono proprio rotti, rotti. Però non so se i crit, mi sembra strano che i crit di magia scalino su agility, eh. Però effettivamente non c'è probabilità di critico magico, c'è solo critico. Rigenerazione di recupero umana. Dov'è il recupero umana? Ok, metto un punto, voglio vedere di quanto... Rigenerazione sono... 18% Wow! 95... Mi ha dato 10 punti neanche un per cento di rigenerazione. Figa, non sarà troppo! Bella Shizu con i 15. Welcome back, thank you. Stavo dicendo, stavo invitando Marta a fare i compiti in inglese. E... Io non so come cazzo insegnano a scuola. Però praticamente... Allora, il primo esercizio era una cagata. A parte che stavo facendo i colori primari, i colori secondari, ma in inglese. Oh beh. Poi c'era tipo da fare delle frasi. Con... Cioè le frasi erano già scritte, con le parole messe col culo. E... Doveva riordinarle. Oh! Ancora ha problemi... A mettere la persona... Cioè tipo... Ai, usci... Si incasina. Cioè, però sono tutti io. E' sempre io, oppure non lo sa. L'ho lasciata 5 minuti da sola. Che ne faccio? Ora vado in bagno e torno. E aveva riscritto tutte le frasi giuste. Ma non era facile. Cioè, nel senso, c'erano tutte le frasi da riordinare. E le ha fatte tipo in 5 minuti, tutte. Però le basi fa cagare. Una veggia. Una veggia. Ma che Google. Hello. Mmm. Alwira. Guarda che... C'è il dente così. Quindi la leggerò così. Ah, ecco di qui finalmente. Sapevo che mi avessi fatto visita prima o poi. Non è importanza chi sono io, tesoro. Non è importanza. Al momento... Sono un'isera vecchia. Sono un bellissimo, tra mi generoso e accogliente con te. Ah, ci vuole accogliere. Fortunatamente ho messo la parte alcune frughiste. Contenziato a un vecchio signore. Bevi qualcosa con me. Grazie, rifiuto dall'offerta. Non bevo. Oh, che delusione. O come vuoi, non mi arrabbierò con te questa volta. Però ti consiglio di non schienarti e spingermi anche il fortuna d'oltrezza. Molto bene. Non è sufficiente. Fai come forse a casa tu. Non ho bisogno di queste cose. Sbadiglia. Che gran sono. Sono vecchia, vecchia, vecchia. La vita è così bella. Così giovane, giovane, giovane. Ma l'avevo ancora tu. Minchia, vuoi dire che dovevo bere? La menta peperina. Oh, disincante 3. Elimina l'incante di manifestazione da un oggetto. I funchi di levito. Minchia, cappello da strega. Tempo di ricarica meno 5 e potere magico più 5 è mio. Guarda che bello. Geomanzia 3. Ma non abbiamo il 2. Ciao, Gio, come stai? Identificatrice, lo usiamo... Uh, l'ho vista mo'. Sul bastone, cazzo. Stavo identificando quella collana di merda. Allora, 11 danni da impatto, una merda. 2 danni arcani, però sono 6 danni in più di quelli, quindi è meglio del mio. Costo di abilità più 5, come il mio. Danni caustici, danni da gelo, potere magico più 5. Mio, dai. Tanto la vecchia non se ne accorge che gli abbiamo svicciato il collo. Questo va all'800, raga, provo a portarmelo in città, magari vale. Ok. Guardate che fighi che siamo ora. Ok, dove siamo? A casa della strega. Allora, direi di andare tutto a sinistra finché non troviamo questo punto di interesse e quest'altro e poi possiamo salvare. Abbiamo una pergamena disincantatrice. Perché dovrei disincantare qualcosa? Per le maledizioni, non abbiamo ancora tolto niente di maledetto. Ma sembra che cosa ci starebbe bene. Brutto stronzo, se lo troppo adesso, mamma mia. Ah, un bel cinghiale, no, pensavo a un borsello. Guardalo che faccio 9 di danno, look at this. Beh, la redi con i 33. Thank you, Johnny. Thank you, thank you, thank you. Abbiamo detto, allora, noi siamo a casa da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oppure guardiamo questa bellissima. E il problema di geomanzia, regà, è che non credo di poterle prendere quelle. Eh, perché vedi, ho sbloccato queste qui addirittura. Ah no, ho sbloccato queste due. Ma mi serve il Tire 2. Il cappello ha parlato? Ah, il cappello della strega diceva una vecchia signora era più furba. Cazzo, c'ho il cappello che parla, regà. Ah, ma se andassimo qui? Ci siamo già andati, regà, la cappella della Sacra Rivelazione? Sa di no. No. Dov'è salvare? Ma no, dai, sarà mica... Il cappello dice, una scelta difficile. Ma è che ricopriamo ormai comunque una gran voglia di metterlo in testa. Ma no, non credo che sia maledetto o robe del genere, dai. Ma noi siamo saliti di uno, quindi siamo qui. Dovremmo trovare sta casa ora. Aia. E salva, regà. Per salvare dobbiamo trovare un fuoco. Un fuoco, un letto. E letto gli effetti della pioggia. E... Sì, ti abbassa le res. Però tanto... Le spelle tirano poco per ora. Forse ancora più uno a destra. Ecco qua. Vedrò bene. Vedrò bene. Minchia già messa sul culo sto cappello. Dimmi che non è pieno di mob. Oh, shit. Amuleto a forma di mano? No, la 3% è schivata. Meno 3% danni subiti. 3% del simbol della mano è ritenuta assai potente nel folklore di Aldor. Capace di proteggere i devoti da sfortuna, malattie e maledizioni. Mettiamocelo. Ci piace. Qui è dove abbiamo ammazzato il coso del tutorial. Qui è dove abbiamo ammazzato il boss del tutorial, regà. Dove abbiamo startato il gioco. Magari un letto c'è qui. No, qua si zona. They see me zoning. Day 18. Ho bisogno di una chiave per sbloccarla. Ok, quindi qui sarà una roba da fare poi. Ah, io direi... Andiamo su qui. Tanto saranno due accampamenti quelli, dai. O forse no. Chat! Facciamo i due punti di domanda e poi andiamo a salvare. O andiamo a salvare e poi facciamo i due punti di domanda? Salve, troppa roba fighissima. Salva, salva. Che pussi che siete! Allora, possiamo salvare al focherello qua vicino. Dai, non andiamo fino in città perché sennò perdiamo troppo tempo. Andiamo qui all'accampamento dei baoboni. Eh sì, l'unica cosa mia è l'inventario che è pie. Cazzo. Eh, gli faccio un cazzo di danni perché piove. Ma poi scusami, piove? Ah no, è vero. Fai più danni con il resto, ma meno danni con il fuoco. Chia che sveglia! Fuck you, bitch! Eh, la carne grassa. Allora uno slot. Ah no, ce l'ho. È libera l'inventario. Allora dobbiamo andare giù qui. Sì, conviene, raga. Siamo troppo in Coombered. Non posso sbloccare geomanzia, raga. Mi serve il libro. Per vedere le spell che abbiamo preso. Mi serve il libro. Ah, noi abbiamo trovato un libro tier 3. Di quanti sono sceso dalla... Dalla casa? Di uno, vero? Noi abbiamo preso un libro tier 3. Di default è il tier 1 della geomanzia. Non abbiamo il tier 2. E se non prendo le spell tier 2, non mi fa prendere quelli tier 3. Curva... Ok. Non ce la facciamo tutta dritta fino in città, sulla strada. Il libro ce l'ha il negoziante. Ma col cazzo che glielo compro, costa un botto? Beh, tanto ormai i danni li faccio, raga. Cioè, nel senso, non è che ho paura. C'è anche il santuario qua. Porca puttana, anche il tipo. Ok. Oh shit, mi ha tolto mezza vita, cazzo. Ok. No, ho dovuto... No, vabbè, c'è un altro lì. Me la fuggheggio. No, vabbè, dai, siamo seri. Guarda quanti sono. No! No! Oh, no! 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 Non è vero. No! No, mi hanno tirato anche la rete! Figli di Lauedra! No, dai, che pain! Non posso curarmi, raga. Eh, GG. Porca puttana, vabbè, in realtà non avevamo niente. Cioè, a parte la roba della strega. Cioè, basta tornare dalla strega. Fatto che non so dove siamo ora, raga. Siamo all'accampamento questo qui. Eh, no, sono così tanti perché ti è andata di sfiga che avevo due mob aggrati e in più c'è stato un ambush. No? Ma siamo qua. A me, raga, dai, un attimo. La roba della strega è RNG, non ci credo. Non ci credo. Se mi dà altra roba ricarico finché non mi ridà il mio fottuto cappello. No, te dark e dormi bene, a domani. Impazzisco, raga. Minchia, step ti do una capocciata, ti do. Impazzisco, raga. Impazzisco, che rosicata, dai. E qui è nove, eh. È nove che ha portato sfortuna nel pieno della sua capacità di iettatore della minchia. Cioè ci ha messo proprio tutto il suo potere di iettatore schifoso per riuscire a incastrare una Lemonized Snicket di sfortunati eventi che è successo a me. Porca troia. E invece sono morto proprio perché vi ho ascoltato. Se io andavo dall'altra parte non morivo. Pussis. Pussis. Adesso c'è un'identificatrice. Cappello. Collana. Bastone, bastone. Bastone. Yes. Yes. No, sono le stesse robe, raga. Non è random qua. Credo. Cosa facciamo, raga? Beviamo a sto punto così scopriamo cosa succede? Prima non l'abbiamo bevuto. Ah che imbarazzo? Ho tesso un ospite così a lungo. Ora non riesco nemmeno a alzermi la segna. Prego serviti pure. Perdona la mia debolezza. Pozione non identificata. La provvedura di questa pozione non ti sono note ma devi identificarla prima di poterla usare. Ok. Ok, niente di che. Mi ha dato una pozza. Ok. Quindi tanto vale tre lupi? Li riporto in casa, cazzo, tre lupi? Asciuna, asciuna, asciuna. C'è un problema, asciuna. Il gel bau da ferà. Il gel bau. Pur cudigel. Eh, mi sa che li devo uccidere. Forse ne è arrivato uno solo. Sì, buono. E non ho neanche lo slot per la carne. Beh, la giant head. Uh. Ah, quindi la casa della strega. Uno. Due. Tre. Su. Prendiamo l'amuleto e salviamo. Dai. Che rompi i coglioni. Ptium. Ptium. Potrei avermi scliccato. Potrei. Allora, lascio morire per i cazzi suoi. Ciao, Snow. Non puoi dormire nel suo letto. Sai che non ho visto? Non credo, però. Ci avrei fatto caso. Perché mi pare che col mauchi sono passato sopra per vedere se potevo. No. Me lo segna quando... Cioè, premendo alt non mi ha segnato il letto. Quindi non potevo. Mangia che lo liberi. Eh, ma tanto devo prendere il mio amuleto. Perché adesso prendo quello della tipa. Cioè, quello nella cosa. Però il problema è che... Devo salire di uno, vero? Sai di sì. Se noi eravamo qui... Teoricamente credo di dover salire di uno. Porca di quella puttana, però. Secondo voi l'ho preso? Secondo me no. Ehm... Fuck. Enchant! Ho sbagliato spell! Mi hanno stunnato. It's okay. Okay, okay. Uh, level up. Che è lo stesso level up di prima, è vero? Col cazzo che voi pagate di XP non vi faccio scappare. Viete qua. Bigliacchi. Ma guarda che ha zonato l'altro. Ma guarda che merda. Oh, che se zona non lo trovi neanche più. Ho una domanda per la chat. Perché se chiede alla chat cosa faccio e poi non lo fa? No, sono morto perché ho fatto quello che avete detto voi. Non è vero che non lo... Dai! Voi miserabili noobs. Vabbè, vi mangio questo. E per la felicità di Fudo. Mi affetto sto coso. Punto stato. Rigenerazione. Ah no, ma è un altro livello, regà. No, il cazzo. Lo stesso di prima. Io direi che rigenerazione ce ne sbattiamo il cazzo. Cazzo, qualcuno di voi sa dirmi... per certo se agilità, influenza e crit delle magie? Percezione non fa più danno. Eh... Ah no, ah, vedi? Probabilità di colpo critico. 8% 9.3 è un botto, cazzo. Un per cento a punto quasi. Go. Ora perceziamo meglio, regà. Perceziamo meglio. Sto percezendo che l'ho preso nel culo. No, non mi aggrare. Please, 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 please. No. No, 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 no. Corri, 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 corri. Corri, cazzo, corri. Corri. Ok. Mi ho mollato, forse. Eh, vabbè, il Giannizero pure. Piove. Minchia, se davo fuoco alla rete, regà, impazzivo. Porca da prigioniero. Eh, non riuscirò mai a lutarla, no. Niente da fare. Minecraft quando? Eh, quando ricomincio a fare i pomeriggi, regà. Continuiamo la run a Minecraft. Minchia, domani pomeriggio c'ho il round numero due con l'osteopata. Eh, non ho spazio per la rete. Se non la prende... Congrega della luna o della spina? Come non ho identificato la staffa? Sì, che ho identificato la staffa. E che faccio praticamente le cose talmente velocemente che... A 60 FPS ve le perdete. Volete che vi metta 10? Così seguite meglio? Capisco che la mia velocità di esecuzione sia veramente difficile da seguire. Come droppare il borsello. Porca puttana, step. Sia tanto così, eh. Tanto così. Eh, il fatto che mi sono perso. Ah, visto che volete sempre essere utili, chat, dove minchia sono? Dove minchia sono? Minchia la porta gialla. No, 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 no. Minchia poi buissimo. Cos'è quella roba lì? Ah, guarda che non me lo fa vedere. Credo che sia la volpe, però. No, un riccio. Volpe sono da gambe. Lalla, non c'è più. Dove cazzo sono? Esattamente dove volevo essere. Qua. Credo. No, non mi sembra una torre. Dove cazzo siamo finiti? Ah no, giusto. Mamma mia, che senso dell'orientamento innato che ho, regà. Mamma mia. Che senso dell'orientamento innato. Ok. Quindi siamo qua. Scendiamo di due e destra di uno e devo salvare. Il cappello di cipollotto, regà, che fa... Ma io anch'io prima volevo salvare lì. Solo che voi mi avete detto, vai in città, ho detto, vabbè, che cazzo vuoi che succeda? Ecco cos'è successo. Dai! Ma secondo voi è evoluta questa cosa? O è un bug? Hai individuato truffatore. Cazzo vuole il truffatore a quest'ora del mattino? Vai a truffare... Qualcun altro. Ma che cazzo? Mi è passato alle spalle? Ok. Pugnale da viaggio? Sono portatile? Cazzo è pugnale da viaggio? 100 gold, va bene. Ah, dovevi andare di due a destra? No, di uno a destra. Ah, non mi sconfondete, eh? Ma che roba, regà. Sono un fottuto tomtom. Vedi che non me la fa cucinare, però. È già cotta sta roba? No che non è cotta. Non ho idea del perché non abbia workato. Bella cugino rap con l'host. Grazie Xionder per il follow. Bienvenidi. Yuppie, yuppie. Ciao gatto, ciao cipollo. Eh. Ma quindi, scusa, fammi capire. Ok, che diceva Arrosso? Ma, eh... Ciao, Anna. Come worka? Cioè, se praticamente uccido un animale con le palle di fuoco lo cuocio direttamente. È fighissimo. È giusto un pelo difficile, cugino. Giusto un pelo ci sta facendo impazzire la due sere. Però sì, è molto figo. Ciao, Mikugio. Ciao a tutti, benvenidi. Perché è difficile? Perché... Basta qualsiasi cosa che muori in istante e non puoi salvare. Cioè, salvi ma solo quando dormi ed è un po' un pain. Ciao, Tetra. È un po' un pain. Qua il gioco non ti spiega più di tanto. Oh baby. È andato bene lo stream? Cos'hai fatto? Corri. Aspettate. Teoricamente devo andare tutto a sinistra. No, è tutto tranne che cute, gatto. Fidati. Cute è proprio l'unico aggettivo che non userei per questo gioco. Cioè, userei infame, viscido... Parzialmente bastardo. Userei tante parole per questo gioco. Bello. Ma cute no. È sofferenza, supplizio, esatto. Ciao, Fiora. E no, non è chill, raga. So che sembra perché sto camminando nei boschi e non sta succedendo nulla. Ma se venivate dieci minuti fa... Era tutto tranne che chill. Diciamo che c'è una difficoltà che è un po' non sbilanciata, però forse dobbiamo ancora capire bene come worka. Perché arrivano dei nemici che prendono, mi one-shotano e via. E ogni volta minchia perdi magari 20 minuti perché ora che arrivi lì fai disfi, dormi, mangia e vaffanculo. Eh, a volte esatto, nei combattenti basta che fai un turno sbagliato. Magari vai a sbattere contro un albero. Sì, sono solo due, dai. Ah, se non piove, raga... Però vedi anche sta roba. Cioè, abbiamo fatto il mago fire. Se piove lo prendiamo nel culo. What? Un fattucchiere. Un segugio del demonio. Guarda che coglione che ha sbagliato la spell. Vedete che non succede solo a me? Minchia se lo charge lo picchio mi lì lui. Assaggia questo pezzente. Ma com'è pezzente? Vieni qua, bitch. Uh, eh, vedi però. Buttiamo questa. Buttiamo questa. No, guarda che ho grato il mondo. Ma nemmeno ci muoio, eh, già lo so. Come fixiamo l'inventario? Guarda che ogni volta che sposto un oggetto mi conta un turno. Ma ti sembra legit questa cosa? Ok, perso mezza vita per lutare. No, regà, correre muoio. Cioè, abbiamo visto che se corriamo moriamo. Perché alla fine ti pigliano. Oppure ti tirano una rete e lo pigliano il culo. Ok. Ciao, cipollon, benvenuto. Ciao. 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 Ok, ora gli faccio fare un passo. Adelante. Ok. Calcio del vaffanculo un po' più là ed è morto. Ma questo è un cazzo di ninja, cos'è? E Mohamed ti rompo il culo Bruce Lee fuori legge. Vai via. Oh, beh. Oh, no. Oh, sì, invece. Tene il culo, Step. Mm. Lo vedi? Mm. 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 Ok. Figurati che avevo visto la faretra. Ho detto, oh, il borsello. Poi ho detto, no, la faretra. Però sopra c'è la borsella. Loro ho detto, sì, il borsello. È stato un... Un susseguirsi di emozioni fortissime. Presto, presto. E il problema è che non so più dove cazzo siamo, raga. Io ogni volta che c'è una fight, tipo, mi si formata... Dai, però, è scriptato, raga. È scriptato che quando c'è un inventario pieno e stai tornando a casa, ti aggra il mondo. Ma vaffanculo, dove gli hai sparato? È certo. Ok, non mi hanno seguito, però. Allora, andiamo in alto e zoniamo. Corri, corri, corri. Esatto. Andrà tutto bene, dice il cappello, raga. Everything's gonna be alright. No, 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 no. Riposa. No, 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 non c'è tempo per riposare. Devo andare a casa, devo andare a casa. Cioè, più che altro dobbiamo capire dove siamo, raga. Come nemico, dove? Ai... Ah, no, non è il cappello. My alley is ok. Eh, dov'è casina? Ah, che sei un porco, cazzo. Ma pensa a te, oh. Ma vai a sbattere contro un albero, no? Cioè, quando scappo io... Guarda che merda, che i mob scappano e ti pullano sugli altri. Figa, raga. Il dev di sto gioco era veramente... Non lo so, gli rubavano i vestiti ogni volta che faceva educazione fisica a scuola e ha dovuto vendicarsi. Che cazzo? E niente, il maiale se n'è andato. Sto uccidendo tutti, hai visto? Sono on fire. E la carne, raga, non me ne frego. Non voglio andarmene a casa. Non voglio il carne. Voglio il mio cazzo di letto. Una strada. Allora, la strada fa zig-zag... Secondo me siamo qui, raga. Vedi che la strada fa così? Secondo me siamo qui. Quindi se continuo per la strada a sinistra, arriviamo nelle braccia del taverniere. Stavo leggendo la chat. No, te shizuko dormi bene. No, raga. Ciao, Todi. From Sweden, you're welcome. Just completed the final quest on permadeath mode. Oh, shit, I'm on the second day of my playthrough. I'm using, yeah, a fire mage. But I kinda die a loop. Ooh. Ok. Questo fa malerrimo, raga. L'enchantix me lo devo tenere per quando arriva lui. Meglio far l'ora. Ok. Bastonata. Easy clap! Eh, però vedi cosa... Mi piace il bleeding. Omega bleeding. Ok. Piano, piano. Saluta il borsello? Aspetta, Steph, ti scrivo una cosa su Telegram. Un attimo, eh. No, l'ho sbagliato, l'ho scritto a's tempo. Ahahahah. Ho sbagliato a's tempo. Ahahahah. un attimo. Ahahahah. Uh, how, 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 how. Il comprensnoti. Ahahahah. No, cazzo Steppo c'è in chat? Steppo? Steppo? Perché è chiuso? Ha chiuso e non mi ha risposto Ho perso un altro sub Ah no, è quello lì, ok Viviamo Mangiamo E ho scritto Steppo, regà E anche Steppo si chiama Stefano Cazzo ci posso fare io? Cioè, non ho capito Perché se ti chiami Stefano devi chiamarti Steppo? Allora, regà, il discorso è Noi abbiamo Magari il suo bastone è OP Ma non lo scopriremo mai Compriamo la scroll Aspetta, allora Dobbiamo andare prima dal tipo che gli diamo le erbe Ma poi quando il PG saltella in giro così, regà Non vi fa troppo venire in mente South Park? Come si muovono i PG di South Park Ho completato l'incarico Ho completato l'incarico Ho completato l'incarico Ho completato l'incarico Una stecca Minchia, che barbone ho Allora, abbiamo le bende Che hanno due usi Vabbè, mi basta Una stack di bende Allora, per il gamine è identificatrice La compriamo Where's my money? Bitch Bitch, where's my money? Shit Andare a prendere il borsello Ah, è vero, cazzo Sembra un po' Veigar Ah, vedi che ce l'ho il borsello, cazzo Non avevo i money Vabbè, facciamo che adesso che devo fare compere Mi tengo questo Tanto poi dobbiamo dormire Ah, ma ce li ho i money, regà È che avevo il borsello pieno L'ho dovuto svappare Allora Torniamo giù dal tipo Anzi, possiamo fare anche prima questo Che magari ce l'ha Cosa vendi? Libro, 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 libro Mazze Bastoni 2 Bastoni 2 potremmo prenderlo Atletica 1 Spade 1 Atletica 1 Però mi può servire bastoni 2 Io lo vedo le skill del 2 Senza aver letto il libro Yeah No, ma non credo Per prendere le skill del bastone, regà E sì che cambia i libri Tutte le volte cambia i libri questo Incantatrice Incanta un oggetto conferendo Un singolo bonus casuale Potrebbe anche essere uno scam Quindi eviterei Ho qualcosa da vendere a lui Vendo l'omuleto Eh, ma non riuscirò mai ad identificare tutto, regà Come faccio a identificare tutto quanto? Vedete quanto gli vendo il libro? Ma vaffanculo Ma vaffanculo Va a 40 gold Che barbone E lui le pergamene non le vende E quello sotto le pergamene Una ne ha Dov'è? Sì, è dentro In casa È dentro L'identificatrice Che lo usiamo sul Bastone È maledetto Allora Bastone maledetto Inesorabile bastone del guaritore Ah, 15 danni da impatto E 2 danni sacri 2,4,6 Quindi fai gli stessi danni nel mio Ad ogni turno Parabilità 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 Di perdere morale Ah no Quello sono tutti Perk negativi Colpo critico Più 7% Danni anatomici Più 33% Secondo voi Meglio questo O il mio? No Mi sa che è meglio il mio Beh, la snake Con i 26 Questo 7% Di critico Eh E dite che Se gli tolgo La maledizione Lo vendo di più No, però me la tengo Quella roba lì Per togliere la maledizione Fa un culo Ah, non lo compra lui Il bastone Fuck Fuck, fuck, fuck Guarda il valore Perché è maledetto Raga Secondo me Se gli tolgo la maledizione Ehm Il valore sale Eh ma il fatto che Il berretto imbruttito Gli dobbiamo vendere Il tipo qua Ben 54 Soldoni Sono soldi Vediamo se possiamo Equipare qualcosa Cioè Comprare qualcosa di nuovo Tipo i boots Fan cagare Ma questo aveva Delle cose fighissime Non ce l'ha più Aveva delle Delle robe fighissime Che costavano 2000 Ma c'è passato Toro che ha comprato tutto Ma 23 Cosa un borsello Sono impazzito A cercarlo in giro Lo veneva a 23 monete Questo Minchia Wart Eh Non ho spazio Per tenere Sto Ma dai Tanto un verde Vaffanculo La collana Sicuramente la mia è meglio Però vabbè La tengo ad identificare Quella È venuta per fare Pochi soldi Che gli avevi bruciato Babone Allora Io direi Che la salsiccia La stiamo fiendo Compriamo Un'altra salsiccia Ci affittiamo Una notte La taverna Sì Poi dobbiamo Rifillare la borraccia E direi Che ora Che abbiamo Anche il nuovo Equip Possiamo Tentare la sorte In una Quest Allora Questa Ne porto solo una Se ce l'abbiamo Anche di questo Ne porto solo una Abbiamo due Di quelle Questa La lasciamo giù E voilà Direi che i chiodi Poi li possiamo vendere Che non credo Servano Allora Allora Fammi Vagionare Dobbiamo Riempire Qua Bere Proviamo A prendere Pelle d'orso Pelle Corna Di Bisonte Qui abbiamo Un giorno Per raggiungere Il castello Lì è troppo tardi Mi dovrebbe dare Un'altra missione Giusto Ne da due alla volta Questo Da iniziare Quella Che manca Un giorno Al fail Direi di no Perché finisce Come là Cazzo è Hello Ma dove cazzo è Non c'è Non c'è Non c'è più Raga Andiamo a dormire Ancora Che palle Finghe Il rumore Dello sciacquone Quando ti viene fame Ok Arrivo Giannizzaro Arrivo Non starà ancora dormendo Guarda No Questo è inizio Come non è casa sua Vedi che c'è il letto Poi il lavoro Mi farebbe comodo Non ho alcun contratto Da offrirti Dai Se sei un merda Dormiamo un giorno intero Beh forse però In un giorno intero Riusciamo a fare Sta questa Dov'è che è? Ah no Vedi Me l'ha data Non ce l'ho più E' possibile Che non mi dia la quest? Guarda i libri Niente Geomanzie 3 Mi trollano Il gioco mi trolla Ardissimo Raga Il gioco mi trolla Ardissimo Non muoio Non muoio vero? Può essere che fosse il mio Sì Minchia Uscita Da posto Sì 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 Lo vende a 1.600 Lo compra a 40 Ma infatti è Allucinante Regà No No Ridi Non c'è i soldi Oh Cazzo Ci dovremmo far bastare questi Non ci voglio andare a prendere L'altro borsello È l'unico a vendere i libri Che abbiamo trovato Sì Ma che cazzo Perché non mi da quest? Regà Aspettiamo Dormiamo ancora Fammi fare una roba allora Eh Però minchia non posso Che cagata Ah no Apri Figo Facciamo così Perché comunque Ogni volta che dormo No Devo pagare Forse non è quest Allora Come non è quest Allora? Sì ragazzi Sono sempre andato di mattina Da lui Non mi da un cazzo Ricontrollo i libri Andiamo a vedere i libri Minchia che bisteccona Regà Ma che roba Asce Asce in inglese Perché? Per i più colti Per i guerrieri più colti Giovanzia 2 800 gold Ma converrà Allora Giovanzia dovrei prendere Ah calcolate che per andare comunque a prendere Giovanzia 3 Devo fare 3 livelli Distrugge un masso L'unico bersagliato Provocando un terremoto Nella lampa in area Per 8 turni Ogni turno All'interno della quantità del terremoto Infligge 4 danni di impatto Riduce l'energia massima di 4% Provocando il 13% Provocando il rispiazzamento Per il trattore Infligge il meno 5% Di capacità di 10% Non sembra male E non posso sapere se è worth Dai va bene Facciamolo Vaffanculo Saremo un mago faffologo Mi sembra buono C'è anche la passiva Che ogni volta che Itti Ehm Vabbè lo facciamo così E rimango con questo Che ogni volta che Itti ti dà Mana Visto che è in mana È un problema Arrivo Johnny Cosa vendi? Ma non ce l'ha più Giovanzia 2 Thank you Johnny un libro da vendere Ma che per cazzo Si interessa Un colta Figlio della Uedra Figlio non poteva darmi Un secondo Lo leggevo E glielo ridavo Ah no Abbiamo un punto Niente Allora devo prendere Faffo Devo prendere Faffo Andiamo a vedere La quest Ora che abbiamo speso No fammi dormire Va che tanto Vai a dormire Un'altra giornata E' l'unica E' l'unica Fammi già comprare Altro cibo Potevano mettere Porca puttana L'NPC che noleggiava I libri Non lo so Cioè perché poi La merda è che Gli oggetti Non riesce a venderli Cioè i soldi Non sono facili da fare Perché 90% Dei oggetti Che potresti vendere Che sono decenti Magari sono Non identificati E non puoi identificarli Oppure Identificare Ti costa 50 gold E li vendi a 30 What? E se posso anche Buttare l'altro borsello Ce l'ho lì Di backup No Devo bere Cazzo Guarda che muoio Prima di arrivare Alla fontana Ti senti debole Ti senti debole Ti senti debole Not dead Not dead Vediamo No dove cazzo vado Mi è nato Vecchia signora Era più furba Cazzo Non aveva a che fare Con uno stronzo Che non le dava le quest Oh misteriose sparizioni Va bene Non mi interessa Nemmeno Cosa devo fare Vado E lo faccio Raggiungi monastero Dell'ospite Inestinguibile Ok Pericolo medio I'm on the road Gianni Quindi sono E' anche vicino Dai 3 e 1 Mi è andato a male Il formaggio Perché mi sono tolato In mano Un formaggio Andato a male What? L'ho davvero Tirato fuori Ma che libri Basta Sono a posto Con i libri Raga Non voglio più leggere Tanto comunque Non ho i punti skill Da mettere Ma forse l'unica cosa Sarebbe per Checcare Per le scroll Dell'identificazione Però minchia Potevano mettere NNPC Che quelle Almeno le vendeva Infinite Abbiamo fatto Molino Uno Alla zona Ancora uno E poi salgo Tiriamo già In obliquo Che risparmiamo Ma anche no E ormai Vabbè È il momento Di provare Il faffo Niente Fuori range Ma come fuori Porta Ah no Ma vedi Il maffo Ah Tu lo metti Proprio per rompere I coglioni Il masso Per bloccare I path Non fa danno Il masso Raga Allora Evoca un masso Nella cascina Versa Nella cascina Fice sette danni Sette nemici Adiacenti Ah no Che non abbiamo visto Il danno Perché era coperto Fa danno ad aria E gli blocchi Il movimento Beh è utile Nei dungeon Quello Esatto Il Cosa di Anivia Bravi Ma dovremmo Dovremmo già essere qua Credo O almeno Credo Qua nessuno C'è il libretto Di istruzioni Credo A quel tale Che dice in giro No 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 Ma che buono No 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 Ah Qui dove abbiamo fatto La La quest Del necromante Ah però è cambiato Vedete il dungeon Non è più uguale Che cazzimo beh Vampiro Patto Scarlato Potrei avermi scliccato Fuck What Grazie Johnny Mi hai fatto un favore No Perché c'è in mano Ste cose Non la cazzo Di staffa Non voglio morire Oh ZEA Uff Da posso Sta a fine domani Perché avevo Erroneamente Scuoiato L'animalo C'è tipo Vedi il pugnale Secondo me Non conviene Manco lutarlo Perché tanto so Che quando me ne andrò Da qui Non avrò lo spazio Ma c'è una porta Con dietro No Trappola Johnny Prendila Prendila Ma vaffanculo Giucciuma Ci sarebbe finito Dentro Ah no In testa Non glielo posso Tirare Il sasso Ok Obbettino Vedi tipo Se io volessi fare Una roba del genere Ora potrei fare Tipo così Metto il sasso lì Ah no Ora mi stunna Per tre turni Shit Vedi lui lo spacca Però mi stunna Per tre turni Ah non tre turni Meno Cioè Ha disattivato La trappola Siamo seri Cioè questo Vive qua dentro Da immemorabili anni E ha aspettato Che arrivassi io Per disattivare La trappola Cioè Sono 150 anni Che gli gira intorno Fotti di splinter Acqua marina Not so smart La figa L'instunnabile Johnny Questo Tipisto Cazzo Calcio What the hell Ma va Catterpillar Con il mese Più importante Ma mi ha rotto Il culo Regà Tutto per colpa Del topo Che si è messo davanti E Olaf Con i 26 Tutto per colpa Di quel merda Di topo Che si è messo davanti Adesso la mia domanda è Prima di andarcene a letto Perché a sto punto È inutile che la ricomincio Ah questo lo facciamo domani In seconda sera Perché ve l'ho detto Alle 9 abbiamo uno stream Sponsored Però è una roba Non lunghissima Anzi Credo Non lo so Voglio capire La quest che mi dà È la stessa Oppure mi dà una quest Diversa Non è ride Basta questo ride Ciao Catter Grazie mille Welcome back Misteriose Sparizioni È lo stesso Vero sì Oppure no Buonasera All'ospedale Sì Ok ok Nemmeno uno spoilerino Non è tanto un gioco Il mio genere Però secondo me Voi vi divertirete A vedermi giocarlo Voi vi divertirete A vedermi giocarlo Perché credo Che ci sarà un po' Da cristare In quel gioco lì Credo che ci sarà Un po' Da cristare In quel gioco lì E so che voi siete felici Quando io Non sono felice E so che